Sì, si comincia, si fa il... ma funziona? Sì, buonasera, allora si comincia, faccio l'appello. Gianassi, Giorgetti è presente, Bosi Sara, Stera, presente, Mattei, Luigi, Sanquerin, Camilla, Surace, Buonini, Lucia, presente, Mariani Giulio, Milani Graziella, Milani presente, Guarducci, Andrea, Bottino Marco, Lobina, Gian Pierluigi, Pecchioli, Luciano, Conti, Gloria, Conti non c'è, No, Conti non c'è, Chiari, Bruno, Ocoglie, Ciucuma, Falchi, Lorenzo, Salvetti, Domenico, Aiazzi, Manola, Massi, C'è, Gargiulo, Loiero, presente, Baldinotti, presente, Attanasio, Ferrucci Massimo, Biagiotti Leonardo, Doni, Massimo, presente, Arrighetti, Arrighetti, non lo vedo, Giovannini, presente, e Vettori, presente. Allora, mancano uno, due, tre, quattro, A 26 presenti, diamo inizio ai lavori, come già sapete, siamo impegnati due giorni per la discussione e l'approvazione del bilancio del Comune, oggi sono previste in fase preliminare le comunicazioni, dopo ci sarà la relazione del Sindaco e la relazione di Sonia Farese, il Presidente dell'istituzione. Io passo la parola direttamente al Sindaco se ha qualche comunicazione da fare. No, assessori hanno comunicazioni? Allora, se c'è qualche comunicazione da parte dei gruppi... Allora, a questo punto, nessuno chiede al Consigliere Sanquerin. Qualche giorno fa, sì, qualche giorno fa la Polizia Scientifica di Palermo ha stabilito che i resti umani trovati tre anni fa nella campagna di Corleone sono di Placido Rizzotto, un sindacalista sequestrato e ucciso dalla mafia nel 1948. Era nato a Corleone, in Sicilia nel 1914, quindi è morto a soli 34 anni. Rimasto orfano di madre da piccolo, dovette lasciare la scuola per mantenere la famiglia dopo l'arresto del padre, accusato ingiustamente di associazione mafiosa. Durante la Seconda Guerra Mondiale combattì in Carnia, in Friuli e dopo l'8 settembre si unì ai partigiani della Resistenza. Tornò in Sicilia, guerra finita, divenne presidente dei combattenti dell'AMPI, l'associazione Partigiani, si iscrisse al Partito Socialista Italiano e divenne sindacalista della CGL. Rizzotto cercò di convincere i contadini a ribellarsi al sistema di potere della mafia che possedeva gran parte della terra. Liquidò nell'occupazione delle terre gestite dalla mafia e nella distribuzione dei terreni incolti alle famiglie onesti. In questo si scontrò con uno dei capi locali, Luciano Liggio, all'epoca giovane mafioso di Corleone che negli anni 50 si affermò come uno tra i più sanguinosi boss della mafia. La mafia decise di reprimere i tentativi di rivolta dei contadini e il 1 maggio 1947 sparò contro 2.000 persone, soprattutto contadini, che manifestavano contro il latifondismo a portella della Ginestra. 11 persone furono uccise, 27 restarono ferite. Il 10 maggio del 1948 Rizzotto, aveva appunto 34 anni, venne attirato in un imboscato da Pasquale Criscione, un compagno del sindacato fedele a Navarra e venne rapito e ucciso nella campagna di Corleone. La Cigelle proclamò uno sciopero generale. Giuseppe Letizia, un pastore di 13 anni, assistente al suo omicidio di nascosto, ma venne scoperto e fu ritrovato il giorno dopo dal padre mentre delirava. Il ragazzo fu poi probabilmente avvelenato su ordine di Navarra. Le indagini sull'omicidio di Rizzotto vennero condotte dall'allora capitano dei Carminieri Carlo Alberto Dallachiesa e portarono all'arresto di Vincenzo Collura e Pasquale Criscione che confessarono di aver rapito Rizzotto insieme a Luciano Liggio. Collura raccontò anche che Liggio aveva giudato il corpo di Rizzotto nelle foibe di Rocca Busambra dove sono state ritrovate il 7 settembre 2009 e definitivamente riconosciute come appartenenti a Placido Rizzotto solo qualche giorno fa. Noi non possiamo che unirci all'appello che si è diffuso nella rete sul web anche su iniziativa di alcuni deputati e personalità del nostro partito perché Placido Rizzotto possa avere seppur a così tanti a così tanti anni anche 63 anni di distanza non solo il riposo ma anche il rispetto e il riconoscimento da parte dello Stato con funerali di Stato che speriamo che le autorità gli vogliano riconoscere. Pensiamo che la lotta alla mafia si faccia certo con la giustizia e con l'azione della magistratura ma che si faccia anche e soprattutto con una educazione e con un riscatto portato avanti dalla cittadinanza ed è per questo e con particolare piacere oggi abbiamo ricevuto la comunicazione dell'adesione del nostro comune ad avviso pubblico la rete degli enti locali contro le mafie adesione che più volte avevamo anche noi tramite mozione e ordine del giorno auspicato in queste sale e che appunto mette la nostra città attraverso per mezzo della sua istituzione in prima fila per quello che possiamo fare per un sistema che sia più giusto e più vicino alla agli ideali che hanno creato che hanno fatto nascere questo paese noi pensiamo davvero appunto che nel versante della prevenzione e dell'educazione si giochi una delle battaglie quella che l'avviso pubblico chiama la formazione civile contro le mafie si giochi la prima linea della battaglia e ci auguriamo che appunto anche noi nel nostro piccolo possiamo perseguendo la trasparenza la legalità e la lotta alla corruzione fare la nostra parte per quanto sono insomma così come è stato nelle discussioni che hanno realizzato questo consiglio sono convinta che anche questa istituzione l'istituzione del consiglio comunale saprà essere unita dietro questa come dire dietro questa battaglia dietro questa bandiera grazie grazie consigliere Sanquerin consigliere Attananzio grazie presidente sì purtroppo è accaduto quello che temavamo i nostri due marò Massimilano Latorre e Salvatore Girone sono stati portati in carcere la Farnesina ha dinamato ad un comunicato stampi in cui specifica che l'Italia considera inaccettabile che i due marò sotto accuse per la morte dei pescatori indiano siano indenuti in carcere e chiede che sia fatto ogni sforzo per reperire prontamente strutture e condizioni di permanenza idonee per i due militari sottolineando poi che la vivissima preoccupazione del governo italiano per la decisione del tribunale di Colan è una brutta storia quella che sta interessando i nostri militari in India una storia rispetto alla quale ci sono delle responsabili da parte della nostra classe politica che sta governando l'Italia ogni giorno da mesi sentiamo parlare di spread e mercati siamo soggiocati dai signori delle banche che ci rispettino di più solo perché siamo al loro servizio ma è evidente che il peso specifico di un paese che non ha una guida politica è tutt'altro che rilevante di fronte alla comunità internazionale questi signori devono accorgersi che governare una nazione non è soltanto far quadrare i conti ma riuscire a imporre la sua credibilità politica all'esterno il giudice indiano dopo una sola ora di camera di consigli emette il suo verdetto con la velocità la sicurezza e il disinteresse che si potrebbe usare per una lite di condominio ecco come siamo considerate il consolo chiede un trattamento speciale per Imano per motivi di status e di sicurezza personale e quello che spuntiamo è che il magistrato ha lasciato alla discrezione della polizia e della direzione generale delle prigioni la possibilità di valutare se I2 debba essere concesso restammo con la mare in bocca quando l'attuare premier Monti con l'Italia in preda all'emergenza ma al tempo spese due parole due sul dramma che si stava verificando in lungo e in largo per l'Italia restiamo essere fatta ancora di più oggi di fronte alla gravissima condizione dei nostri soldati in India con il governo del paese che sembra non in grado di poter affrontare la situazione i nostri marò devono essere liberati poi ci occuperemo di come perché tutto questo si sia potuto verificare delle responsabilità lo abbiamo chiesto durante la manifestazione del 3 a marzo scorso lo ha urlato il popolo il nostro popolo prima che la situazione degenerasse e ancora di più oggi ci stringiamo alle famiglie dei nostri militari per l'angoscia che stanno provando i signori della vita e della morte hanno sequestrati i nostri marò perché in realtà ci vedono come l'italietta è incapace di difenderli è una vergogna evitiamo che accada quanto è successo in Nigeria in cui il nostro pro nazionale è stato barbaramente uscito per mancanza di spessore e considerazione politica estera alla famiglia di Lamolinale va da parte mia del mio partito il più sentito cordoglio per cui oggi ma senza timore per le notizie che giungono dall'India ci sentiamo di doverlo gridare ancora più forte liberateli gruppo misto alla destra grazie grazie consigliere Attanasio nessun altro chiedo la parola passo la parola al sindaco per la relazione sul bilancio signore e signori consiglieri la vicenda della Ginori rappresenta un elemento paradigmatico della situazione nella quale siamo ad operare e per le scelte e opzioni politiche di questa amministrazione una fabbrica storica importante famosa nel mondo densa di professionalità antiche e moderne vittima di un mercato difficile di un credito impossibile di una lacerazione sindacale delle incertezze dei soci proprietari è qui su questo campo che si svolge la moderna battaglia tra bene e male da una parte le responsabilità oggettive di un capitalismo finanziario aggressivo egoista e privo sia di regole etiche sia di controllo pubblico da un'altra le specifiche gravi difficoltà nelle quali versa un paese il nostro dopo 17 anni di berlusconismo una crisi la nostra aggravata dall'enorme debito pubblico dall'alta pressione fiscale dai bassi redditi dal lavoro dipendente e pensione da un'enorme area di evasione fiscale e di economia sommersa il crollo dell'esperienza fallimentare dell'ultimo governo di centrodestra è lì a rappresentare il fallimento di una politica populista e lontana dagli interessi veri degli italiani il presidente napolitano ha colto più di altri in questi ultimi due anni la necessità di accompagnare il paese fuori dalla crisi nella maniera meno traumatica possibile superando lo schema radicato che impediva alle grandi forze politiche di misurarsi su progetti e leadership alternative fino a quando fosse rimasto in campo l'anomalia tutta italiana di Berlusconi è stata la sua insistenza il suo richiamo ad una responsabilità nazionale che ha convinto alcune forze politiche anche di centrosinistra ad assumere il compito di sostenere un governo di transizione che consenta all'Italia di superare questo difficile momento economico e finanziario non è questo ovviamente il luogo per commentare positivamente o negativamente il quadro politico italiano ma non posso fare a meno di esprimere alcune considerazioni la condizione di pesante deficit dello Stato e del più alto rapporto d'Europa tra il debito pubblico e il PIL è motivo di grande preoccupazione le previsioni di stagnazione e recessione dell'economia italiana anche per i prossimi due anni unite alla crescita della disoccupazione soprattutto giovanile rappresentano elementi che chiunque abbia a cuore il destino del paese deve affrontare il rilancio della produzione dei consumi del lavoro sarà il terreno sul quale si dovranno misurare politici intellettuali sindacalisti imprenditori i cittadini bene ha fatto il governo intervenire con decisione sul prestigio dell'Italia all'estero umiliato negli anni da Berlusconi bene ha fatto a proporre manovre che avessero l'obiettivo di salvare l'Italia mi permetto però di nutrire qualche dubbio e qualche contranetà sull'insufficienza delle misure o sul taglio delle manovre dal punto di vista sociale insomma non sarà sufficiente salvare l'Italia se non si salveranno anche gli italiani noto con preoccupazione la scelerità dell'approvazione in Parlamento con un'istantanea fiducia del decreto che impone l'Imu e innalza l'età pensionabile e la più lunga e contrastata discussione sul decreto che liberalizza professioni e tariffe il governo Monti è tutt'altro che un governo tecnico un governo politico fatto da tecnici tale compagine rappresenta ancora una volta un'anomalia nella storia della democrazia europea anomalia che andrà corretta attraverso un limpido confronto fra programmi e leadership alternative alle elezioni del 2013 l'Italia ha bisogno di stabilità di lungo periodo di credibilità e affidabilità di politiche e classi dirigenti ha bisogno con il necessario graduale consenso dell'impegno di tutti per raddrizzare la barca tutti nessuno escluso dovranno fare la loro parte con sobrietà responsabilità rispetto della legge ma ci sono alcuni terreni sui quali vale la pena in particolare di soffermarsi e riflettere per lasciarci alle spalle definitivamente liberismo e populismo senza incorrere in uno statalismo già visto è urgente dunque una riforma del welfare che accompagni chi è in difficoltà che renda sopportabile gli eventi della vita che sostenga con decisione come scelta di campo il lavoro la sua qualità e stabilità il rilancio di un'etica legata all'impegno e alla responsabilità personale più che all'assistenza indiscriminata ciò non deve far voltare però dall'altra parte lo sguardo dello Stato nei confronti di chi provvisoriamente per un lungo periodo ha bisogno di assistenza sostegno solidarietà il novecento si è chiuso sulla fine di un vecchio sistema e il nuovo millennio non ha saputo costruire un nuovo impegno dello Stato a sostegno dei cittadini la riforma del welfare è e rimane una grande sfida moderna difficile pensare che in un momento di perdita diffusa del lavoro di saturazione di ammortizzatori sociali insufficienti di crollo di consumi interni si possa risolvere la crisi e la caduta dell'offerta di lavoro con la soppressione dell'articolo 18 il provincialismo italiano si rivela anche in questo discutere e dividersi su simboli senza che questi rappresentino comunque vada la soluzione al problema una discussione che fa torto anche all'impresa migliore che certamente non rivendica questo tra i problemi decisivi da affrontare signor Presidente signore e signori consiglieri oggi serve spiegare ai giovani come entrare in fabbrica o in ufficio e non come ne possono essere cacciati serve spiegare ai 149 lavoratori e soprattutto lavoratrici della Calvin Klein perché un'azienda con un prodotto forte che fa 2,5 bilioni di dollari di fattorato improvvisamente chiude uno stabilimento ricco di professionalità serve spiegare ai 66 dipendenti di Alitalia perché un'azienda che gestisce il 118 in Toscana si trasferisca sul lago di Lecco serve spiegare agli 84 dipendenti di Deco d'Italia come mai un'azienda leader europea della serigrafia con un ricco portafoglio ordine chiuda dopo il secondo fallimento serve spiegare ai 30 dipendenti di Resisto perché dopo aver celebrato gli 80 anni di vita l'azienda evapori come neva al sole serve spiegare perché con il turismo che vola in area fiorentina i 22 dipendenti di Onaway abbiano esaurito anche le ultime possibilità di cassa integrazione serve spiegare ai 34 dipendenti della Mangani come mai un patrimonio storico di forme e professionalità con un potenziale mercato finisca a schiaffi tra gli aredi del titolare serve spiegare ai 53 lavoratori della paterna in Libia come mai un'azienda liberne dell'oggettistica d'argento non riesca più a trovare margini di profitto a causa dell'oscillazione sempre al rialzo dei metalli preziosi signor Presidente signore e signori consiglieri è urgente anche una riforma della pubblica amministrazione improntata su due capisaldi decisivi la democrazia e l'univocità delle funzioni dopo la sbornia brunettiana che rendeva di moda disprezzare il lavoro pubblico deve tornare l'ansia riformista di renderlo produttivo attagliata alle nuove moderne esigenze efficiente ed efficace per questo non condivido attraverso le leggi di bilancio senza un'attenta analisi sia dei costi sia degli impatti tutti voi sapete che così come è strutturato il livello dei comuni sarà impossibile assorbire funzioni delle province senza personale né risorse aggiuntive tutti voi sapete che sarà difficile affibbiare ai comuni la gestione delle scuole superiori come delle strade provinciali tutti voi sapete che oltre che è difficile e anche ingiusto consegnare alle regioni funzioni amministrative e non di definizione delle regole e delle leggi si profila sullo sfondo un neocentralismo regionale che oltre a non piacere ai comuni disegna un nuovo modello di Stato anti-autonomista e nemico del principio di sussidiarietà signor Presidente signore e signori consiglieri l'autonomismo un concetto a noi caro da sempre il nostro comune e fondatore di Anci che sviluppato in maniera virtuosa consegna ai cittadini il potere di decidere sulle sorti delle politiche locali siamo sempre stati per regole ferre responsabilità nazionale da una parte e piena libertà di esercitare quanto previsto dal titolo quinto della Costituzione dall'altra fallito il federalismo delle corna sull'elmo richiamati tutti alla realtà di una spesa pubblica fuori controllo sarebbe stato corretto che un esperto come il Presidente Monti utilizzasse in maniera virtuosa quella categoria di enti dello Stato che non solo hanno contribuito più e meglio dello Stato al contenimento della spesa ma che hanno dimostrato di essere in grado di caricarsi in spalla ancora un pezzo del fardello comune per farlo al meglio lo Stato ha una sola strada anche attraverso parametri rigidi quella di differenziare il ruolo e le capacità degli enti di produrre lavoro e reddito senza penalizzare indebitamento e spesa pubblica invece nel prossimo triennio i comuni toscani contribuiranno ancora per quasi un miliardo e mezzo di euro al risanamento della finanza pubblica le risorse bloccate dal patto di stabilità interno passeranno da 78 milioni a 339 di cui 290 nel 2012 il combinato disposto tra taglio e patto fa perdere alla toscana iniziativa economica per 400 centramento e di responsabilizzazione della democrazia regionale e locale e in questo senso fu accolta la riforma in direzione federalista con un passaggio storico da accogliere per modernizzare la Repubblica nel suo insieme e per difendere l'unità e la coesione nazionale di un terreno più avanzato e consapevole degli obbili inderogabili di risanamento della finanza pubblica nel contempo ci siamo da sempre opposti a qualsiasi interpretazione della riforma federalista che andasse nella direzione di dividere il paese sul solo terreno fiscale o di alimentare egoismi territoriali contrari al principio solidaristico malgrado fosse esplicita da chiara lettera nella stessa legge delega l'attuazione della legge 42 si è però sviluppata in modo del tutto insoddisfacente e incoerente con gli obiettivi della stessa contenuti e che avevano condotto alla sua approvazione in Parlamento con l'astensione costruttiva dell'opposizione di seguito ci soffermeremo sulle tante omissioni sugli elementi contraddizione nonché sugli effetti devastanti e le manovre di finanza pubblica che ci sono susseguite negli ultimi mesi hanno prodotto sull'intero impianto della riforma in estrema sintesi gli obiettivi di fondo del federalismo erano superare il sistema di finanza derivata basato sui trasferimenti statali sostituendoli con tributi e entrate proprie integrati da fondi per equativi destinati a correggere il finanziamento dei territori con minore capacità fiscale per abitanti abbandonare la logica inefficiente della spesa storica a favore di criteri di costo fabbisogno standard per venire all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali al fine di conseguire una maggiore trasparenza e confrontabilità per realizzare tali obiettivi il governo fin dal 2009 fu delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che riempissero di contenuti concreti la fitta e complessa trama di principi e criteri direttivi nucleati dal legislatore il governo Berlusconi optò per un approccio modulare l'esercizio della delega è stato scomposto una serie di decreti legislativi ne sono stati emanati otto dei quali diremo in seguito tralasciando quelli che non hanno un impatto diretto sulla finanza degli enti locali come Roma Capitale e l'ordinamento finanziario di regioni e province deve però subito evidenziarsi che nessuno dei provvedimenti adottati è esaustivo già che tutti prevedono una serie spessa assai complessa di ulteriori passaggi attuativi deve poi aggiungersi che per completare il disegno complessivo mancano alcuni passaggi essenziali a cominciare dalla legge del riordino delle autonomie locali chiamata ad individuare le funzioni fondamentali dei comuni a fissare i livelli essenziali delle prestazioni infine occorre valutare come i provvedimenti adottati negli ultimi mesi abbiano modificato quelli precedentemente adottati bisogna stravolgerli nei tratti essenziali nel caso del federalismo municipale signor Presidente signore e signori consiglieri cominciamo dal federalismo demaniale il decreto legislativo 85 è stato il primo ad essere emanato esso dando attuazione all'articolo 19 della legge 42 ha previsto l'attribuzione agli enti territoriali dei beni statali da individuare con apposo decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri obiettivo dichiarato era quello di favorire una migliore gestione e valorizzazione degli immobili statali attraverso le nazioni concessioni locazioni e promozioni di fondi comuni di investimenti immobiliari sotto il profilo finanziario l'attribuzione dei beni immobiliari agli enti territoriali non avrebbe comportato oneri per questi ultimi ad eccezione della riduzione dei trasferimenti erariali nella misura dei mancati introiti da parte dello Stato in seguito alla cessione dell'immobile a partire dall'approvazione del decreto l'Agenzia del Demani ha compilato l'elenco degli immobili suscettibili di trasferimento e specularmente anche una specie di black list comprendenti i beni esclusi perché è ancora in uso per finalità istituzionali alle varie amministrate e zone statali il risultato di tanto lavoro è stata una lunga lista di beni di scarso valore degradati inutilizzati e quasi sempre di difficile se non impossibile valorizzazione mentre nella black list restano i pezzi più appetibili ancorché non effettivamente utilizzati dallo Stato il caso del nostro comune a questo proposito è emblematico ci sono stati offerti appezzamenti di bosco e tratti di strade vicinali sperdute in collina porzioni di immobili in comproprietà e infine aree umide sulla piana tutti i beni non sono privi di qualsiasi possibilità di valorizzazione ma che avrebbero comportato nuovi oneri di manutenzione nello stesso tempo per quanto riguarda le due caserve dismesse presenti sul territorio comunale queste sì suscettibili di valorizzazione c'è stato comunicato che per una l'ex inserma quarlieri esiste già un protocollo di intesa con l'università per spostarvi alcuni istituti di ciò per l'altra l'ex caserma donati ci è stato fatto presente che è tuttora in uso al ministero della difesa quale esso sia ciò invece ignoto stante lo stato di abbandono sotto gli occhi di tutti dopo la parentesi prima di rilievo per l'impianto del federalismo fiscale del decreto su Roma Capitale il successivo decreto andato in porto è stato quello dedicato alla determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province i fabbisogni standard costituiscono uno snodo fondamentale dell'intero disegno riformatore rappresentano infatti i parametri i quali ancorare il finanziamento integrale delle spese fondamentali degli enti locali al fine di conseguire il graduale superamento dell'attuale modello che poggia quasi integralmente sul criterio della spesa storica il DLCS 216 ha carattere molto generale limitandosi a descrivere il percorso procedurale da intraprendere restando vago anche nel fornire le necessarie indicazioni metodologiche l'operazione è tecnicamente complessa il decreto fornisce indicazioni abbastanza ovvie riguardo all'individuazione dei livelli quantitativi delle prestazioni l'analisi dei costi la specificazione di un modello di stima dei fabbisogni mediante la sperimentazione di diverse tecniche statistiche infine la definizione di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi allo stesso tempo viene riconosciuta la necessità di individuare i modelli organizzativi adottati nelle singole realtà per la fornitura dei servizi locali ad esempio in termini di esternalizzazione o gestione associata ciò che manca nel decreto è invece l'individuazione dello schema al quale dovrà riferirsi il calcolo dei fabbisogni standard per ciascuna delle funzioni fondamentali in particolare non appare chiaro se la base di partenza sarà data da un fondo predeterminato definito in coerenza alle grandezze macroeconomiche e gli indicatori derivanti dall'analisi dei fabbisogni saranno utilizzati per la sua ripartizione con approccio top down oppure verranno individuate le prestazioni minime da garantire secondo costi unitari efficienti quindi appunto standardizzati e su tale base verrà determinato l'insieme delle risorse necessarie per il loro finanziamento un approccio bottom up il decreto 216 non fornisce risposte al riguardo ed è abbastanza facile ipotizzare che alla fine del percorso si dovrà trovare una soluzione che dovrà tener conto allo stesso tempo dei vincoli di finanza pubblica e delle enormi differenze territoriali oggi esistenti nell'offerta dei servizi da parte degli enti locali in altri termini la determinazione delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi non potrà che collocarsi all'interno delle manovre di finanza pubblica con la conseguenza ai fabbisogni calcolati per ciascun comune si porranno come regola di riparto delle risorse tra gli enti interessati il successo o l'insuccesso dell'intera operazione dipenderà così da come e in quale misura gli amministratori locali sapranno cogliere l'occasione di utilizzare gli indicatori per efficientare la gestione della crisi quanto abbiamo detto sembra essere confermato da altre due circostanze il decreto sui fabbisogni come tutti gli altri decreti previsti dalla 42 contempla una clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio statale l'unica interpretazione possibile di tale disposizione è quella per cui l'ammontare della spesa degli enti locali finanziata dallo Stato deve restare mutata nella sua dimensione complessiva cosicché i risparmi provenienti dagli enti cui fabbisogni risulteranno inferiore alla spesa storica dovranno far pari con la spesa aggiuntiva degli enti cui fabbisogni risulteranno invece al di sopra della stessa l'elevazione in corso dopo la funzione 1 e la 3 sta partendo in questi giorni quella riguardante l'istruzione se da una parte contengono molte lacune informative dall'altra raccolgono dati estremamente dettagliati che dovranno essere vagliati attentamente al fine di non prendere in considerazione tutte le variabili poste a base della spesa locale in caso contrario i fabbisogni rilevati finirebbero con il confermare la spesa storica cristallizzando l'attuale distribuzione delle risorse e vanificando di conseguenza gli obiettivi dell'intera operazione da ultimo non va dimenticato le funzioni di spesa su cui calcolare i fabbisogni standard sono quelle fondamentali la cui puntuale individuazione è affidata ad un intervento legislativo la carta delle autonomie locali da tempo giacente in Parlamento nell'attesa sono state considerate come fondamentali quelle provvisoriamente individuate e omettali dall'articolo 21 della 42 che riguardano funzione generale d'amministrazione gestione e controllo nella misura del 70% delle spese certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge funzione di polizia locale funzione di istruzione pubblica compresa di asilinido assistenza scolastica e riflessione nonché l'edilizia scolastica funzione nel campo della viabilità e dei trasporti funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente esclusa edilizia residenziale pubblica e servizio idrico integrato funzioni del settore sociale rispetto alle funzioni individuate dal DPR 194 del 1996 con il quale venne stabilita l'attuale struttura dei bilanci comunali restano escluso le funzioni relative ai seguenti ambiti giustizia culture e beni culturali settore ricreativo e sportivo turismo sviluppo economico servizi produttivi impossibile non fare una battuta sul fatto che la costituzione così complessa faccia riferimento a funzioni identicate solo in via provvisoria signor Presidente signore e signori consiglieri infine è arrivato il federalismo municipale con questa impropria definizione è stato rubricato il DLGS 23 fulco dell'attuazione dell'intera riforma prevista dalla legge 42 a dispetto del titolo il decreto tratta solo la materia della finanza comunale senza in esso sia presente alcun collegamento con l'altra componente del sistema di finanziamento dei comuni ovvero i trasferimenti perequativi a regime con i quali garantire la redistribuzione del getto transitorio tra i vari territori il decreto 23 dell'anno scorso aveva delineato un percorso di riforma della finanza comunale suddiviso in due fasi la prima di transizione avrebbe dovuto coprire il periodo 2011-2013 la seconda sarebbe dovuta scattare dal 2014 nella prima fase era prevista la devoluzione ai comuni in tutto e in parte del gettito dei tributi erariali inerenti al settore territoriale e immobiliare oltre ad una quota della neo istituita scedolare secca era inoltre prevista una compartecipazione all'IVA da ripartire in attesa della determinazione del gettito IVA a livello comunale sulla base del dato regionale suddiviso proporzionalmente agli abitanti di ciascun comune sulla base di tale disposizione nella scorsa primavera abbiamo approvato una variazione di bilancio con le quali le somme istanziate titolo secondo dell'entrata sono state spostate sul titolo primo relativo alle entrate tributarie gli effetti del decreto sono stati dunque quelli di una fiscalizzazione presso e totale dei trasferimenti mentre però la compartecipazione all'IVA è stata effettivamente collegata alle fiscalità del territorio è durata meno di un anno come vedremo tra poco ma nel consuntivo 2011 risulterà iscritta a tale titolo la somma di euro 3 milioni e 145 le altre compartecipazioni hanno alimentato un fondo pericolativo provvisorio il fondo sperimentale di riequilibrio per un importo corrispondente alle indicazioni ministeriali ancora una volta fondate sul principio di invarianza finanziaria pari a 4 milioni e 828 mila euro la somma dei due importi al netto del taglio dei trasferimenti 2011 disposto dal DL78 pari a 1 milione e 124 mila corrispondeva pertanto al totale dei trasferimenti statali iscritti del bilancio di previsione per il 2011 così da lasciare molti dubbi sull'effettivo riferimento del fondo sperimentale di riequilibrio al gettito dei tributi immobiliari sul territorio essendo lo stesso determinato di fatto per differenza trasferimenti all'1-1 2011 meno con partecipazione IVA uguale fondo sperimentale di riequilibrio appariva altresì evidente come la fiscalizzazione dei trasferimenti statali non avrebbe consentito ai comuni nessuna possibilità di manovra maggiore di quella inesistente propria dei vecchi trasferimenti la seconda fase della riforma sul federalismo comunale era prevista dal decreto legislativo 23 con avvio dal 2014 prevedeva tra l'altro la sostituzione degli attuali tributi comunali che a vario titolo insistono sul comparto immobiliare con due nuove imposte per il finanziamento dei comuni l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria riteniamo opportuno non soffermarci sulle previsioni a riguardo contenute nel decreto sul federalismo municipale in quanto nel primo caso l'imposta municipale propria fatta salvi riferimenti espressi di articoli 8 e 9 dello stesso decreto contenuti nell'articolo 13 del DL 201 decreto Monti la relativa normativa è stata del tutto stravolta da quest'ultimo intervento normativo basti dire della reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale non contemplata dal decreto 23 dell'imposta municipale secondaria dovrebbe sostituire diverse altre forme di prelievo municipale in particolare l'occupazione di spazi da repubbliche da una parte l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche afflizioni dall'altra è troppo presto per parlare non avendo al momento alcuna influenza sul bilancio 2012 che resta disciplinato nelle suddette materie delle norme attualmente vigenti appare invece più importante ricordare i maggiori spazi di autonomia tributaria riconosciuti ai comuni attraverso la facoltà espressamente contenuta nel decreto sul federalismo municipale di introdurre un'imposta di soggiorno di utilizzare un'imposta di scopo diversamente disciplinata rispetto all'originale previsione del 2006 di sfruttare lo sblocco comunque parziale e graduale della possibilità di intervenire sull'alipode dell'addizionale comunale sull'IPF l'articolo 4 del DLGS 23 è previsto dopo qualche anno e se ne parlava e dopo lo scorso anno era stato introdotto limitatamente al comune di Roma l'istituzione dell'imposta di soggiorno in realtà non si tratta di una novità per il nostro ordinamento tributario risalendo la sua prima regolamentazione addirittura al primo decennio del secolo scorso mentre la sua soppressione risala poco più di 20 anni fa la possibilità di istituire l'imposta è stata riconosciuta ai comuni capoluogo di provincia all'Unione dei Comuni nonché quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte si è pertanto dovuto attendere e la Regione approvasse le procedure per la costituzione dell'aggiornamento di tale elenco con deliberazione della giunta regionale 903 dopodiché gli uffici comunali interessati si sono tempestivamente attivati per poter essere inseriti nell'elenco in questione l'iscrizione non è stata semplicissima perché la Regione si è in questo caso adoperata per complicare la vita ai comuni attivando un nuovo strumento l'osservatorio turistico di destinazione e ponendo l'istituzione dello stesso in ciascun comune come requisito necessario ai fini dell'iscrizione siamo riusciti in tempi assai ristretti a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata deliberazione regionale a concludere positivamente la prevista concertazione alle associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e quindi con decreto di licenziale numero 5951 il primo ad essere emanato in attuazione della delibera regionale 903 comune di sesto unitamente comune di Fieso e San Gimignano è stato iscritto nell'elenco nei giorni successivi è stato deliberato dal Consiglio Comunale il regolamento dell'imposta di soggiorno e quindi con delibera della giunta comunale numero 11 del 2011 sono state approvate tariffi comportanti una previsione di maggiori entrate pari a 900.000 euro l'articolo 1,123 della legge 220 la legge di stabilità del 2011 prevedeva che sia dall'attuazione del federalismo fiscale fosse confermata la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi di addizionali di alipote ovvero della maggiorazione di alipote e di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato la norma citata risulta oggi abrogata ma era ancora vigente nello scorso mese di marzo tanto che l'articolo 5 del decreto 23 ha previsto un aderogo al blocco prevedendo la graduale e parziale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'indipote ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui fosse già istituita come abbiamo detto l'aumento previsto dalla norma citata non era generalizzato era stato previsto che la facoltà fosse esercitabile in assenza della regolamentazione governativa da parte dei comuni non avessero istituito l'addizionale ovvero l'avessero istituita ma con alipote inferiori allo 0,4% per tali comuni il decreto 23 poneva un limite massimo all'addizionale per i primi due anni parlo 0,4% e comunque si stabiliva l'addizionale non potesse essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% l'anno abbiamo usato verbi al passato perché la seconda manovra estiva di cui diremo tra breve ha superato le disposizioni del decreto 23 scongelando del tutto la possibilità di disporre del tributo in questione una novità in essere non abbiamo mai considerato ma che potrebbe essere esplorata negli anni a venire è l'imposta di scopo inizialmente istituita dall'articolo 1,145 e 151 della legge 296 del 2006 è stata utilizzata da una decina di comuni l'unica di una certa importanza è quella di Rimini non tanto per il tassativo elenco delle opere finanziabili comunque abbastanza vasto ma per le modalità applicative l'originale disciplina prevedeva infatti l'imposta fosse dovuta in relazione alla stessa opera pubblica per un periodo massimo di 5 anni e che il gettito complessivo non dovesse essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare a questa impalcatura l'articolo 6 del decreto 23 apporta importanti modificazioni è previsto un regolamento ministeriale ancora da emanare l'ulteriore individualizzazione di opere pubbliche rispetto a quelle previste dalla normativa del 2006 potrà essere aumentata fino a 10 anni la durata massima di applicazione dell'imposta il relativo gettito potrà finanziare l'intera montare della spesa per l'opera pubblica da realizzare a seguito delle recenti restrizioni della possibilità per gli enti di ricorre all'indirizzamento l'imposta di scopo dopo le modifiche sopra descritte si presenta come valida alternativa per il finanziamento delle opere pubbliche signor Presidente signore e signori consiglieri come avviene ormai da alcuni anni il governo ha avviato con largo anticipo la definizione della manovra finanziaria per il 2012 che si è caratterizzata quest'anno per un dubbio intervento legislativo dapprima il decreto legge 98 convertito con legge 111 e poi il decreto legge 138 convertito con legge 148 una valutazione complessiva dei due provvedimenti da una parte evidenzia il continuo impegno richiesto all'amministrazione locale ulteriormente accresciuto al fatto che l'effetto prodotto dalle nuove disposizioni si somma a quello già prodotto dalle manovre degli ultimi anni dall'altra appare evidente la contraddittorietà di scelte operate con l'unica logica di porre sotto controllo la finanza pubblica svuotando di ogni contenuto quella che pochi mesi prima era stata sbandierata come la più importante riforma della finanza locale degli ultimi 50 anni in questa sede ci preme soffermarci su due aspetti dei provvedimenti estivi che hanno avuto effetti sul bilancio di previsione 2011 e sulla finanza locale in generale le umilità riguardanti il patto di stabilità e lo sblocco totale dell'addizionale IRPEF per valutare compiutamente il primo aspetto occorre però avere riguardo anche alla legge 183 del 2011 che ha portato importanti modifiche alle due manovre estive per quanto riguarda il nuovo patto di stabilità le ulteriori novità per il 2012 riguardano principalmente l'aumento dell'importo complessivo della manovra per il 2012 l'articolo 20 l'articolo 20 comma 5 del decreto legge 98 ha stabilito che i comuni dovranno concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto cioè tradotto in termini di obiettivi di patto di stabilità interno per 1,7 milioni di euro che saliranno a 2 miliardi nel 2013 in base alla legge di stabilità che ha confermato il calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista l'obiettivo del patto di stabilità viene determinato applicando la percentuale del 15,6 sulla media della spesa corrente impegni di competenza del triennio 2006-2008 depurando il risultato ottenuto del taglio a trasferimenti previsti dal DL78 del 2010 e dell'entrata stimata derivante dalla Robin Taxi il risultato finale è un obiettivo di 2.737.000 euro superiore di 1.061.000 a quello dell'anno 2011 1.676.000 euro si tratta di un obiettivo elevatissimo se solo si tiene conto e per la parte corrente per avere la sicurezza di raggiungerlo si dovrebbe far leva sulla leva fiscale conseguendo un surplus delle entrate correnti sulle spesse correnti di pari importo mentre agendo sul conto capitale dovremmo bloccare del tutto gli investimenti in opere pubbliche per quanto ci riguarda contiamo di raggiungere l'obiettivo agendo contemporaneamente sul contenimento della spessa corrente da un lato e su una ragionata programmazione della spessa in conto capitale dall'altro nel 2011 siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo nel migliore dei modi il patto è stato rispettato nello stesso tempo il comune ha chiuso l'esercizio avendo disposto pagamenti in conto capitale per 8,8 milioni e soprattutto a differenza della quasi totalità degli altri enti senza avere una sola fattura o stato d'avanzamento in attesa di pagamento abbiamo onorato i nostri debiti per opere pubbliche fino all'ultimo euro e questo ci proponiamo di fare nel 2012 signor Presidente signore e signori consiglieri vorrei che questo fosse un punto molto chiaro per tutti noi l'altra novità è data dall'introduzione dei criteri di virtuosità il decreto legge 98 del 2011 aveva introdotto una distinzione ai fini della sottoposizione al patto tra enti virtuosi e non prevista a partire dall'anno 2013 che la successiva manovra di L138 anticipata al 2012 l'originale disposizione aveva previsto anche la ripartizione degli enti locali in quattro classi sulla base di nove parametri con l'articolo 30 della legge di stabilità è stato invece stabilito e gli enti saranno divisi in solo due classi enti virtuosi e non e che per il 2012 saranno utilizzati unicamente i seguenti quattro parametri rispetto del patto di stabilità non vi dovrebbero essere problemi interpretativi o fuori o dentro ma il decreto di attuazione dovrà però stabilire se il riferimento sarà ad una singola annualità o a più anni autonomia finanziaria si tratta di un rapporto assento utilizzato nella contabilità pubblica per misurare il rapporto tra entrate proprie tre estrate putrarie ed entrate correnti che ricomprendono il titolo secondo relativo ai trasferimenti con l'eliminazione dei trasferimenti fiscalizzati e allocati sul titolo primo le uniche differenze rilevabili potranno essere date dall'entità dei trasferimenti regionali equilibrio di parti correnti come tutti sanno obbligatorio l'unica differenza può essere data dall'utilizzo diventato diffuso di una quota delle entrate per ora di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti non è il caso del nostro comune rapporto fra entrate di parti correnti accertate riscosse esigenza di attivare procedure di riscossione in grado di assicurare adeguati livelli di cassa e a tutti presenti come a tutti nota la vicenda e vede qu'Italia cessare la propria attività e di comuni cercare soluzioni alternative sulla base di questi quattro parametri è impossibile prevedere l'inserimento del nostro comune nell'una o nell'altra classe con forti probabilità di vedere Taranto o Catania nella prima e noi o Reggio Emilia nella seconda la legge di stabilità per il 2012 è intervenuta poi su un'altra materia strettamente connessa al patto di stabilità e di notevole importanza per la finanza locale modificando le regole per il ricorso all'indebitamento in particolare è stato drasticamente ristretto il limite previsto dall'articolo 204 del testo unico riferito al rapporto tra l'importo annuale degli interessi nell'anno precedente l'accensione del prestito e l'importo dei primi tre titoli dell'entrata come risulteranno dal rendiconto del penultimo anno precedente il limite dal primo gennaio di quest'anno diventa per quest'anno l'8% era il 10 per l'anno 2013 il 6 era previsto l'8 a decorre dal 2014 il 4 nel nostro comune la spesa per interessi nel 2011 è stata pari a 310.562 euro mentre le entrate correnti come dal consentivo 2010 ammontavano a 36.730.000 euro e il rapporto è dunque pari allo 0,85% per raggiungere con i dati sovrisposti il limite del 4 la spesa per interessi dovrebbe salire a 1.469.000 euro ma questo importo è tale da finanziare mutui a 15 anni al tasso attualmente praticato da Cassa Depositi e Prestiti per 25 milioni di euro la legge di stabilità 2012 prevede inoltre che a partire dal 2013 gli enti locali riducano l'entità del debito pubblico le modalità attuative saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia che dovrà prevedere distintamente per comune e provincie la differenza percentuale rispetto al debito medio pro capite oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito la percentuale annua di riduzione del debito le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo della riduzione del debito la mancata attuazione dell'obbligo di ridurre lo stock del debito è sanzionata alle stesse penalità disposte per il mancato rispetto del patto di stabilità relativa al personale e a limiti sulla spesa corrente la procedura di rientro del debito naturalmente non ci interessa trovandoci molto al di sotto della soglia prevista dalla nuova normativa ma probabilmente appissantirà ulteriormente i bilanci di quei comuni che si trovano sopra soglia e che oltre all'impossibilità di ricorrere ulteriormente all'indebitamento dovranno altresì reperire risorse per poterlo ridurre un'ultima informazione che vale per inquadrare bene la situazione finanziaria del comune di Sesto i comuni italiani presentavano al primo gennaio 2010 un debito residuo di 43.217 milioni di euro 43.217 milioni di euro su un totale riguardante tutti gli enti locali pari a 50.804 milioni il debito degli enti locali Toscana montava a 3.402 milioni e dunque quello relativo ai comuni ipotizzando la stessa proporzione dovrebbe girarsi intorno ai 2.900 milioni pari ad un pro capito la popolazione toscana alla stessa data era 3.750 milioni di 733 euro pro capito in Toscana nel comune di Sesto il debito residuo alla stessa data era pari a 7.402 milioni per un pro capito di 154 euro il 20% della media regionale signor Presidente signori consiglieri vorrei che questo punto fosse molto chiaro per tutti noi il governo Monti nel suo primo provvedimento normativo nell'anticipare al primo gennaio 2011 l'IMU in via sperimentale ha preventivato un gettito per l'anno 2012 pari a 21.4 miliardi di cui 18 frutto della tassazione degli immobili diversi dall'abitazione principale e 3.4 riferibili a queste ultime e cioè a fronte di un gettito ISCI 2010 pari a 9.2 miliardi di euro ad allipute base l'intera differenza andrà allo Stato per via della quota di riserve e della norma di invarianza fatti salvi pochi casi in cui il gettito IMU risultasse inferiore al lice del 2010 qui di seguito ci limitiamo a richiamare le principali disposizioni della nuova normativa e a illustrare gli effetti finanziari sul bilancio del nostro comune l'imposta ha per presupposto il possesso di immobili compresa l'abitazione principale le pertinenze della stessa per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinata ai fini dell'isci ma calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata più 60% per le abitazioni e le pertinenze nonché per gli uffici banchi e assicurazioni più 20% per edifici industriali e commerciali l'alliquota di base dell'imposta è par al 7,6 per mille i comuni con deliberazione del consiglio possono modificare in aumento in diminuzione dell'alliquota base fino a 3 punti millesimali l'alliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale con margini di manovrabilità fino a 2 punti millesimali minimo 2 massimo 6 per mille la differazione applicabile all'unità immobiliare adibita all'abitazione principale è par a euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione negli anni 2012 e 2013 si sottraggono ulteriori 50 euro per ogni figlio d'età non inferiore ai 26 anni anche se questo è possessore di reddito i comuni possono stabilire l'elevazione dell'importo della defrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio ma in tal caso non possono stabilire alipote superiori a quella ordinaria per l'unità immobiliare tenuta a disposizione è prevista la riserva a favore dello Stato ad una alipota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'equota base del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale relative pertinenza sono abrogate le disposizioni e prevedono l'esenzione dell'isci sulla prima casa nonché alcune importanti potestà regolamentare dei comuni a cominciare da quelle relative all'assimilabilità dell'abitazione principale per i fabbricati concessi in uso gratuita apparenti di particolare importanza la disposizione comma 17 dell'articolo 13 secondo la quale agli incrementi di entrata stimati per i comuni nel loro complesso per effetto del maggior gettito IMU rispetto al gettito Isci corrisponde una riduzione di pari importo del fondo sperimentale dell'equilibrio ogni effetto espansivo di gettito dovuto all'IMU viene pertanto sterilizzato determinando una sostanziale invarianza delle entrate comunali tale invarianza in base al successivo articolo 28 deve fare i conti con una riduzione secca del fondo pari a 1,450 milioni che andrà ripartita a 1 milione a 1.450 milioni che andrà ripartita per ciascun comune in proporzione al maggior gettito IMU come si vedrà subito tale riduzione dovrebbe incidere sul nostro bilancio per un importo che può essere stimato perché di stime stiamo parlando in 1,3 milioni che potrà essere fronteggiato se non vogliamo incidere sui servizi con un aumento dell'aliquota IMU che permetta il pareggio di bilancio per il pari importo signor Presidente signori e signori consiglieri veniamo adesso ad esaminare l'impatto della nuova imposta sul bilancio del nostro comune utilizzando la banca dati costituita nel corso degli anni e apportando le necessarie variazioni alle rendite e alle difrazioni per abitazione principale è stato possibile effettuare le seguenti stime del gettito ad aliquota base aliquota principale al 4 per 1000 3.352.000 altri immobili al 7,6 per 1000 15.646.000 per un totale ad aliquota base di 18.998.000 in base al decreto legge 201 il gettito complessivo sarà così ripartito dall'iquota base 3.352.000 allo Stato è sbagliata la colonna dall'iquota base 3.352.000 non è sbagliata la colonna 15.646.000 gli altri immobili di cui 7.853.000 vanno allo Stato altrettanti vanno al comune così come viene versato direttamente al comune quelli dell'abitazione principale per un totale di gettito come ho detto di 18.998.000 due 7.823.000 immediatamente percepiti dallo Stato e 11.175.000 versati nelle casse del comune il decreto però prevede però che la differenza tra il maggior gettito Imo 11.175 e il precedente gettito Ice 8.250 pari a 2.925.000 vada in detrazione del fondo sperimentale di riequilibrio dal fondo deve essere ulteriormente detratto l'importo stabilito a livello nazionale in 1.45 miliardi che ciascun comune è chiamata a stimare in relazione al maggior gettito Imo in assenza di indicazioni ministeriali la stima dell'ulteriore taglio è stata effettuata con la seguente proporzione gettito Imo sul gettito nazionale per riduzione totale quindi 18.9 per 1.450 su 21.800 uguale a 1.300.000 euro di taglio al nostro comune tenuto conto delle risorse che confluiscono nel fondo sperimentale di tagli e delle decurtazioni sopra descritti si ha la seguente situazione prima del decreto 201 le risorse del comune di Sesto erano di questa natura addizionale Enel per 480.000 euro fondo sperimentale 4.078.000 con partecipazione IVA 3.145.000 l'isci direttamente riscosso dal comune 8.250.000 portava risorse prove e trasferimenti a 15.953.000 euro con l'approvazione del decreto legge 1 il fondo il fondo speciale dell'equilibrio diventa di 4.078.000 insomma non sto a leggere tutti i numeri insomma in sostanza con la riduzione dal articolo 28 di 1.300.000 il fondo di riserva passa a 3.478.000 l'Imo viene raccolto dal comune per 11.178 la differenza è 1.300.000 come si vede dall'ipota base al comune non resta alcuna risorsa anzi deve sopperire all'ennesimo taglio pari a 1.300.000 e ciò costringerà tutti i comuni a utilizzare in misura più o meno consistente la leva fiscale fornita dall'Imo o dall'addizionale IRPEF o da entrambe come alternativa al taglio dei servizi la scelta operata della giunta è stata quella di lasciare invariata l'addizionale IRPEF al 0,3% la più bassa della provincia fino al 2011 insieme al capoluogo e di applicare le seguenti aliquote IMU queste sono le abitazioni principali al 3,8 per mille prevedendo un gettito di 3.022.000 euro l'8,8 la cosiddetta aliquota base per tutti gli altri immobili con un gettito di 17.742.000 in totale il prelievo attraverso l'Imo ai contribuenti se stessi salirà a 20.764.000 dentro questo calco ci sono anche le eccezioni proposte a questo consiglio l'aliquota al 10.6 per mille imposta su immobili tenuta a disposizione con contratti non registrati da almeno due anni l'aliquota del 6 per mille applicata per le abitazioni affittate secondo quanto previsto dalla legge 431 del 98 e l'aliquota del 2 per mille su fabbricati rurali che tratta la quota di spettanza statale 7.823.000 il gettito a disposizione del comune resta determinato in 12.941.000 con maggiore introito rispetto a quella d'aliquota base di 11.175.000 di 1.766.000 destinato per 1.3 milione a coprire la riduzione del fondo l'ulteriore taglio della legge e per 100.000 euro a finanziamento di maggiori spese emerse dopo la predisposizione dello schema di bilancio approbato a novembre scorso 70.000 euro riguardo l'emergenza della neve di queste settimane ma se consiglio approva un ordine del giorno per non predisporre azioni di protezione civile per gli eventi così faremo e per il resto da accantonare sul fondo non impegnabile non impegnabile da utilizzare come economia di spesa per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interna Signor Presidente Signore e Signori Consiglieri vorrei fare due considerazioni aggiuntive la prima riguarda la ripartizione del gettito della nuova imposta e vi abbiamo fatto cenno prima il coma 17 dell'articolo 13 stabilisce infatti agli incrementi d'entrata dovuto al maggior gettito IMU rispetto al gettito ICI corrispondono riduzioni di pari importo del fondo sverimentale così gli effetti espansivi previsti con l'IMI vengono di fatto sterilizzati nel nostro caso sommando la quota attribuita direttamente allo Stato 7.823.000 riduzione del fondo a 2.925.000 i benefici per lo Stato corrispondono al 56.6% del totale del gettito IMU ad aliputa base mentre per il comune non ve ne è alcuno in quanto la differenza corrisponde al vecchio gettito ICI da notare anche la riduzione del fondo nel nostro caso è così rilevante da rappresentare l'87.3% del gettito dell'abitazione principale la seconda riguarda la pressione fiscale che resta moderata se confrontata a una realtà a noi vicine e alla quale risponde un'elevata potenzialità di gettito in particolare per quanto riguarda l'addizionale IPEF questa è utilizzata in misura pari al 37,5% della sua potenzialità e può teoricamente garantire ulteriore 3,3 milioni di gettito per quanto riguarda l'IMU sull'abitazione principale le potenzialità sono ovviamente superiori al 100% e superiore a 4 milioni in termini assoluti e senza tenere di conto della detrazione per i figli che è prevista solo per due anni per quanto infine riguarda gli immobili diversi dall'abitazione principale la leva fiscale viene utilizzata con questa prima applicazione in misura pari al 40% del totale suscettibile di fornire ulteriori 3 milioni di gettito signor Presidente signore e signori consiglieri siamo forse uno dei pochi enti pubblici il cui prelievo fiscale non è stato mai considerato con leggerezza per nessun tipo di reddito pensiamo di aver fatto una proposta onesta perché modera l'impatto della patrimoniale governativa non approfitta del generale malumore per far entrare dalla finestra ciò che è sempre stato tenuto fuori dalla porta i redditi dei se stessi per noi sono preziosi e accanto alla necessità di salvare l'Italia abbiamo creduto di fare il nostro dovere usando come sempre con moderazione la leva fiscale inviterei le commissioni competenti magari a distanza di un anno a confrontare i valori IRP e FEIMU tra i comuni della nostra area e della nostra regione non per menar vanto ma per imparare dagli altri come fare meglio aggiungo per pura curiosità una considerazione ulteriore come voi sapete il comune di Firenze unico del suo genere mi risulti ha deciso notizia di questi giorni di ridurre l'addizionale IRPF dallo 0,3% allo 0,2% è un'ipotesi che abbiamo valutato anche noi ma che escludendo ovvia considerazione sulla minore progressività dell'addizionale rispetto ad un'imposta patrimoniale ci siamo provati a simulare i medesimi effetti della liquide IMO e IRPF del capoluogo rispetto a quelle a voi proposte se applicassimo il 4 per 1000 per le prime abitazioni 9,99 per 1000 per le altre che sono la liquide decise dal capoluogo le eccezioni sono le stesse del nostro regolamento e contemporaneamente l'addizionale allo 0,2% invece che le nostre alipote l'aggravio per i contribuenti e i proprietari se stessi sarebbe di ben 1.750.000 euro in più dunque senza nulla togliere le scelte fiorentine il nostro mix è meno pesante ritengo che sia più equa la nostra proposta infine il sole 24 ore dello scorso 8 marzo informa che la nuova IMO sarà il triplo della vecchia ISCI per quanto riguarda il nostro comune sarà invece leggermente minore del doppio dato di per sé drammatico e di questo aumento al comune come ormai è noto a tutti resterà il 90% del vecchio gettico signor Presidente signore e signori consiglieri proveremo anche l'introduzione del cosiddetto redditometro quale strumento di dissuasione dall'accesso improprio alle prestazioni del comune a tariffe agevolate sappiamo che lo strumento è impotente di fronte all'agenzia delle entrate ma vogliamo contribuire anche noi alla sacrosanta campagna nazionale per la civiltà attraverso il recupero dell'evasione fiscale c'è l'esempio del comune di Calenzano già sperimentato ma anche nel rivo il nuovo redditometro nazionale vedremo cosa costruire anche se sappiamo che lo dobbiamo fare velocemente signor Presidente signore e signori consiglieri veniamo ora alle grandezze del bilancio di previsione 2012 entrate correnti pur rimanendo pressoché invariate nella loro consistenza complessiva risultano a seguito delle modifiche apportate dal decreto sul federalismo fiscale prima e dalla manovra Monti poi completamente stravolte nella loro composizione tanto da rendere quasi impossibile una comparazione tra le risorse del 2012 e quelle iniziali del 2011 fra le entrate tributarie nella categoria imposte è azzerata lisci e figura adesso l'imio per un importo di 12 milioni 943 mila euro la nuova imposta rappresenta il 62,5% delle entrate tributarie e 36,5% del totale delle entrate correnti 35,471 risultano azzerate le voci relative all'addizionale sul consumo di energia elettrica la compartecipazione IRPEF e IVA perché fiscalizzate e conguovate nel fondo sperimentale di Regolibro resta mutata nella sua previsione l'addizionale IRPEF 2 milioni mentre compare per il primo anno l'imposta di soggiorno 900 mila euro sempre nel titolo primo allocato categoria 3 il fondo sperimentale rideterminato in 3 milioni e 478 e parla al 17% delle entrate tributarie e al 10% dell'entrata corrente questo fondo pensato nell'architave della riforma federalista risulta oramai del tutto snaturato rispetto alle finalità per cui era stato introdotto come si è detto prima avrebbe dovuto confluire il gettito di una serie di tributi immobiliari la sua manovrabilità avrebbe dovuto essere utilizzata per pericolare le entrate in relazione ai fabbisogni in realtà mentre la rilevanza e fabbisogni appena iniziata il fondo sperimentale è stato fin dall'aprile scorso determinata leggeplicamente partendo dai vecchi trasferimenti tenuto conto della compartecipazione IVA con la manovra Monti ha perso ogni residuo collegamento al DLGS 23 e attualmente è la risultante del fondo di prima introduzione aumentato delle risorse fiscalizzate addizionale N nel compartecipazione diminuita dalla differenza in WICI di 1 milione e 925 nonché dei tagli già previsti ai trasferimenti dal vecchio decreto 78 del 2010 per 750 mila euro e di quello introdotto dall'articolo 28 del decreto legge 201 danno stimato appunto 1 milione e 300 mila euro il dato ne risulta 3 milione e 478 e ancora una volta determinato algebricamente non si comprende la sua allocazione fra le entrate tributarie trattandosi di un vero e proprio trasferimento nel complesso le entrate tributarie costituiscono il 58% delle entrate correnti sul titolo 2 dell'entrata trasferimenti trovano ormai allocazione solo quanto residua di quelli destinati agli investimenti il fondo regionale per il settore sociale complessivamente il titolo 2 secondo ammonta 583 mila euro non rappresenta neppure il 2% dell'entrata corrente infine il titolo 3 relativa alle entrate tributarie e uscito indenni dalla rivoluzione contabile sopra descritta prevede entrate pari al 40% di quelle correnti spese correnti non presentano particolari spunti di riflessione in quanto le previsioni degli uffici hanno ricalcato quelle definitive del 2011 tanto che in prima battuta nel novembre scorso le previsioni del bilancio era risultata più agevole del solito la predisposizione del bilancio era risultata più agevole del solito unica variabile era il secondo taglio previsto per il 2012 dal 2L78 para 750 mila euro ma l'introduzione dell'imposta di soggiorno avrebbe permesso di farvi fronte senza incidere sui servizi normalmente per verificare la rigidità del bilancio ovvero il suo rigidimento in spesa a carattere ripetitivo viene fatto riferimento alla spesa per interessi a quella per il personale nel primo caso l'incidenza di interesse rispetto alla spesa 2012 presenta una percentuale dello 0,76% ancora più bassa da quella prevista dall'articolo 204 del testo unico dove si è detto parlando del limite dell'indebitamento sul dato del personale dopo aver detto che in cifra assoluta presenta una diminuzione rispetto alla previsione del 2011 superiore a 200 mila euro merita però soffermarsi per alcune considerazioni nell'anno 2012 sono stati confermati anzi rafforzati i vari vincoli posti alla spesa di personale degli enti locali in particolare occorre ridurre progressivamente le spese del personale in termini assoluti mantenere in limite del 50% un rapporto tra spesa e personale e spesa corrente a tale scopo dal luglio 2011 sono computate anche le spese delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni svolte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi caratteri non industriali né commerciali ovvero svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica nel nostro caso doccia service qualità e servizi il rispetto di entrambi i vincoli suddetti oltre ovviamente al rispetto del patto di stabilità consente poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente oltre all'assunzione tramite mobilità volontaria che non rientrano in detto limite diversamente non è possibile procedere ad alcun tipo di assunzione neanche a tempo determinato tramite i contratti di collaborazione coordinata e continuativa grazie ad un'oculata politica del personale e vi compreso un'attenta gestione degli istituti contrattuali decentrati il comune di Sesto è in grado di osservare entrambi i vincoli imposti è tuttora vigente il vincolo imposto sempre dal DL78 di non aumentare il fondo per il salario accessorio rispetto a quello del 2010 così come quello di ridurre sia la spesa per la formazione che per missioni fuori sedia dei dipendenti nel limite del 50% della spesa del 2009 da quest'anno inoltre mediante una modifica al DL78 apportata dalla legge di stabilità gli enti locali devono ridurre la spesa del rapporto di lavoro flessibile tempo determinato elaborazioni coordinate continuative contratti di formazione di lavoro tirocini eccetera nel limite del 50% della spesa sostenuta sempre nell'anno 2009 è ancora dibattuta in fase di approfondimento da parte degli uffici la possibilità di conferire o meno incarichi dirigenziali a tempo determinato mediante l'applicazione dell'articolo 110 del testo unico stante le modifiche apportate in materia dal decreto legislativo 150 al cosiddetto Brunetta in caso di esito positivo della verifica verrà valutata l'opportunità di coprire mediante incarichi a contratto il posto del dirigente a setto del territorio vacante dal luglio scurso al 31 dicembre il comune di Sesto contava 302 dipendenti di quei 289 dipendenti a tempo indeterminato erano 312 al 31 12 del 2010 4 dirigenti di quei 3 a tempo determinato erano 5 di quei 3 a tempo determinato al 31 dicembre dell'anno precedente 3 dipendenti a tempo determinato assunti nello staff del sindaco 3 dipendenti a tempo determinato assunti come altre specializzazioni 3 dipendenti a tempo determinato assunti per esigenze temporanee oltre al direttore generale al segretario generale nel corso del 2012 è prevista la copertura parziale dei posti che si renderanno vacanti a seguito di pensionamenti mentre sono in corso di completamento alcune procedure di mobilità volontaria avviate a fine 2011 e per le quali stiamo attendendo l'autorizzazione a trasferimento da parte di attuali enti datori di lavoro del personale selezionato signor Presidente signore e signori consiglieri chiedo scusa per il ritardo nel quale vi presento l'atto amministrativo di programmazione più importante la vicenda politica italiana ha mutato le carte in tavola immediatamente dopo la prima approvazione da parte della giunta del relativo schema nuove norme fiscali così come nuove riduzioni di trasferimenti hanno costretto tutti gli enti a ritardare prestudiare capire e proporre soluzioni coerenti con le nuove normative sapete bene che questo ritardo non è imputabile né alla giunta né tantomeno ai nostri tecnici come diceva Bertolt Brecht esitare va benissimo se puoi fare quello che devi fare quando abbiamo cominciato a lavorare sul bilancio per prima cosa abbiamo messo in fila le preoccupazioni e poi scelto i criteri la preoccupazione guida è la portata della crisi spesso sottovalutata da questo consiglio o evocata come elemento di sola polemica politica coloro che perdono il lavoro coloro che non riscuotono lo stipendio da mesi coloro che vedono esaurire il tempo degli ammortizzatori sociali coloro che a 60 anni sono espulsi dal ciclo produttivo senza aver diritto alla pensione non interessano affatto lo dimostrano quante e quali interrogazioni vengono formulate e chi raccoglie firme per questo o per quello costoro cercano nell'ente locale chissà ancora per quanto lo faranno lo stato di prossimità una sussiderità morale e anche pratica vogliono essere ascoltati parlare della loro dignitosa disperazione e cercare di capire spesso inutilmente responsabilità e prospettive molta della sfiducia anche elettorale si realizza in questa zona della società e non c'è sinistra radicale destra populista o finto civismo che tenga la soluzione dei problemi viene da una seria classe dirigente amministrativa che comunità compia scelte e continua a guardare la luna e non il dito signor Presidente signore e signori consiglieri noi diciamo forte il lavoro e i bisogni delle famiglie prima delle buche e di un materasso abbandonato il saldo delle sedi artigiane è negativo per il 2,86% ma nel sottinsieme a manifatturiero la crisi elimina il 4,72% di queste aziende un dato che colpisce chi come noi ha diffuso del territorio provinciale e questa tipologia aziendale le unità locali attive in generale tengono solo meno 0,20% ma anche sul livello generale il manifatturiero paga pegno meno 4,83% c'è un piccolo aumento delle imprese di costruzioni più 0,74% e una generale tenuta delle imprese commerciali con l'usinghiero 1,75% contro una flessione a livello provinciale le ore di cassa integrazione generalmente diminuiscono per il loro esaurimento ma in provincia di Firenze superano comunque i 13 milioni aumenta la cassa integrazione in deroga quella prevista priva di requisiti e contributi e sostenuta dalle regioni avviamenti e cessazioni nell'ufficio di collocamento di sesto si bilanciano con un più 6,2% ed un più 6,6% a dimostrazione dell'estrema precarizzazione dei contratti di lavoro si registra un dato allarmante del crollo delle isprizioni foriero di sfiducia nella possibilità di trovare lavoro con questo sistema le procedure attivate di crisi aziendale degli ultimi tre anni sono 101 i lavoratori per i quali sono state avviate procedure di licenziamento nello stesso periodo sono 677 i lavoratori per i quali è stata chiesta la procedura di mobilità sono stati 2106 con i dati fermi all'ottobre scorso in questi anni le crisi siamo stati chiamate ad affrontare sono state quelle via l'Italia 66 dipendenti SELT che 25 dipendenti Decor Italia 84 dipendenti Giovanni Nencini dei Cobas Cinori mi ha chiesto qui se ricordavo Decor Italia assolutamente sì come ricorderò sempre anche gli 84 lavoratori licenziati Resisto 30 dipendenti Opitec 11 dipendenti Olimpia 42 dipendenti Bonechi 20 dipendenti Aiazione 20 dipendenti Unaway 22 dipendenti Yanua 20 dipendenti Tuasorgente 50 collaboratori Paterno e Livi 30 dipendenti Warnaco Calvin Klein 149 dipendenti Per tutti costoro c'è stato il medesimo impegno che mettiamo per i lavoratori di Cinori e per tutti gli altri ne avranno bisogno Magari ci interroghiamo sul perché non sono state raccolte le firme per un consiglio comunale aperto Ho detto e penso che la solerietà per una miserabile polemica politica all'occhio a qualche voto crea i danni ai lavoratori all'impresa ai sindacati alle istituzioni impegnate nello sforzo di trovare soluzioni a volte aggiustamenti a volte le vie meno dannose per il numero più alto di persone chi perde il lavoro chi non viene pagato soffre merita solidarietà e impegno permanente merita scelta di campo culturale scelta alle forze politiche che hanno l'ambizione di governare la complessità e di risolvere i problemi che la storia ha messo loro di fronte hanno l'obbligo di affrontare Signor Presidente Signore e Signori Consiglieri la crisi dunque per imprese e famiglie come il nuovo paradigma della nostra azione amministrativa non solo per subirla o prenderne atto ma come stimola a fare il possibile per risolvere i problemi e aiutare i cittadini paradigma deve trovare conseguenze coerenti nei criteri di priorità con la scelta dunque di mantenere il livello dei servizi la nostra città la nostra gente i vecchi e nuovi cittadini le nostre imprese sono abituate ad avere un alto e buon livello dei servizi investimenti assistenza politiche per l'infanzia e l'educazione politiche per chi anche provvisoriamente si trova in condizioni di marginalità sociale e o economica non abbiamo voluto cedere alla stretta finanziaria e come detto abbiamo tentato anche quest'anno di tenere ferma la barra di politiche anticipiche in un quadro duro e difficile peggiorato se possibile dalle decisioni di aumento dell'addizionale regionale IRPER per tutti deciso dalla legge nazionale e dalla scelta di un ulteriore aumento della stessa operato dalla regione toscana seppure per le fasce di reddito più alti insomma un ulteriore prelievo avvertito già in questi giorni che unito all'aumento nazionale e regionale dell'acciso della benzina e a quello dell'IVA sui tanti prodotti peserà e come sui bilanci delle famiglie a noi toccano le scelte oggi con il bilancio ma anche tutte le volte voi consiglieri portate all'attenzione di questa assemblea mozioni su argomenti spesso marginali che in nome di un piuismo ormai figlio di un mal costume politico del passato comporta impegni di spesa l'ho detto e l'ho ridetto chi vuole fare qualcosa non è previsto deve dire dove tagliare o togliere risorsi in maniera credibile senza contare l'ovvio anche se non sempre scontato rispetto delle leggi ex ante e non ex post a tal proposito mi fa piacere che la regione si appresti a varare una legge valida erga omnes per contrastare negli appalti la disgustosa pratica delle dimissioni in bianco se si fa una legge dunque il segno non si poteva fare senza a volte il risentimento personale porta su strade pericolose che non vengono percorse perché magari sbagliando gli elettori hanno scelto però persone serie purtroppo le ultime manovre del governo Berlusconi e quelle dell'attuale governo hanno peggiorato sensibilmente lo stato della finanza locale introducendo sia confusione normativa che un pericoloso disegno neocentralista accentuato a mio modo di vedere dal governo Monti signor Presidente signore e signori consiglieri 750 mila sono gli euro tagliati a Berlusconi e bere un milione trecchi del cosiddetto salvo Italia o tagliare i servizi o recuperare queste risorse altre strade non ne conosciamo trovarne o da leve fiscali ammessi con i risparmi e l'efficientamento della struttura del patto di stabilità abbiamo già detto aggiungo che una crescita dell'obiettivo di quasi un milione per dirviare né ce la faranno così come ha annunciato dal Presidente Anci Graziano Del Rio noi ci proveremo ancora e per farlo non sceglieremo la sola via delle tasse ma quella del mix tra nuove entrate poche e maggior controllo degli investimenti certo chi di voi ha visto i grafici che ho avuto modo di presentare non può non convenire su qual è la causa principale di alcuni rinvii o ritardi nella realizzazione dei programmi signor Presidente signore e signori consiglieri le scelte politiche della maggioranza e ringrazio per la fermezza delle convinzioni per l'intelligenza delle soluzioni e il lavoro dei tecnici hanno portato alla proposta e mi onoro di sottoporre a quello che spero essere il vostro benevolo giudizio a cui i principali obiettivi di finanza locale raggiunti sono i seguenti la spesa è stabile intorno ai 34 milioni e mezzo con la diminuzione del costo del personale è stata finanziata una parte degli aumenti del costo dei servizi è rimasto inalterato il trasferimento alla società della salute a livelli quasi doppi della media nella zona nord-oveste e quella all'istituzione con una crescita di quelle dedicate alla biblioteca ragionieri aumentata la spesa prevista per le manutenzioni ordinarie resta irrisorio il peso di interessi passivi 0,90% con il limite dell'otto ammonta a 700 mila euro l'anno l'importo per il rimborso di mutui capitale e interessi non viene utilizzato neanche un euro proveniente dagli onori di urbanizzazione per la spesa corrente l'incidenza dello stock del debito farebbe contento anche il più rigoroso economista liberale per far tutto ciò ci vogliono idee chiare una macchina amministrativa completamente ristrutturata su criteri meritocratici vedi il contratto decentrato recentemente firmato l'amore per la propria gente il sostegno forte della maggioranza del Consiglio una maggioranza poca avvezza a giochetti ma attenta ai fondamentali economici e sociali ma ci vogliono anche risorsi la tassa di soggiorno in vigore dal primo febbraio dalla quale stimiamo di ricavare circa 900 mila euro una tassa che non abbiamo mai nascosto essere un pessimo surrogato del federalismo che fa passare nella normale spesa corrente gli introiti che sarà capace di raccogliere i parametri di spesa alla quale le garra sono già state provate dal Consiglio Comunale l'adeguamento delle tariffe per i servizi per l'infanzia già ampiamente stratificati in fasce di reddito legate all'ISEE del nucleo familiare estratto ai quali con un bel accordo con le organizzazioni sindacali è stato da una parte applicato l'indice FOI nella misura del 2,73% e l'1,82% nel riallinamento delle fasce di reddito al recupero del cosiddetto fiscal drag un'aliquota imu tale da recuperare il brutale taglio di 1.300.000 euro derivante al decreto legge 201 un contributo seppur non risolutivo per rendere meno penalizzante l'impatto nel nuovo obiettivo del patto di stabilità interna signor Presidente signore e signori consiglieri l'amministrazione comunale continua a credere indispensabile un forte piano degli investimenti che patto di stabilità e tesoreria unica permettendo consentirebbero di imprimere un sostegno anticirchico all'economia locale le opere come accrescimento del patrimonio dell'ente e dunque dei cittadini ma anche come il lavoro per imprese professionisti tale da consentire la creazione di occupazione e di sostegno dei consumi come scelta anche di politica macroeconomica quando i sindaci chiedono al governo l'allentamento del patto fittiziamente associato agli obblighi comunitari questo chiedono maggior numero di piccoli cantieri locali minor tempo di pagamento dei fornitori altro che come scrive Sergio Romano agenzia di spessa e di collocamento il piano degli investimenti previsto dal programma elettorale ha subito senza fare demagogia basta vedere il coefficiente angolare della curva di crescita dell'obiettivo di patto e dettagli a trasferimenti questa si impenna dal 2009 in poi ciascuno è libero di ricamarci le proprie considerazioni le buche il cancello del parco di Quinto i baci a piedi rotto e così via tutte cose spesso vere ma marginali rispetto alla crisi profonda che attraversa la società il mondo del lavoro tutto le famiglie e il paese altre volte ho invitato a guardarle la luna e non il dito constato purtroppo e per qualche gruppo politico non esiste la crisi non esistono i risultati delle politiche sociali del comune non esistono i risultati straordinari della fiscalità locale non esistono i vincoli di legge ma solamente la giratina quotidiana con la macchina fotografica quando le forze politiche si riducono a questo poco hanno da contribuire al bene comune molto invece al degrado della politica a somma di micro interessi privi di sintesi magari in attesa di una sostanziosa urbanistica contrattata di antica memoria credendo tra l'altro che i nostri concittadini non sappiano come fare a segnalare disservizi e disagi ed ottenere risposte e soluzioni le segnalazioni all'URP nel 2010 ultimo dato elaborato sono 1819 che portano dall'inizio del mio mandato al totale di 11.457 13.080 ai contatti del 2011 al front office della polizia municipale il sistema comune starebbe fresco se si basasse sui fotografi della domenica a dolore che qualcuno anche all'interno del mio partito abbocchi all'idea di una partecipazione pelosa invece di essere soddisfatto di questa straordinaria apertura all'opinione dei cittadini sarà il segno dei tempi ma se così è sono brutti tempi la politica che abdica al dovere di farsi interprete di interesse generale e si acquattra tra le polveri dei micro interessi particolari si misura anche qui la forza di una classe dirigente per il futuro la pochezza di una per il passato Gramsci commentava una quartina del giusti dietro l'avello di Machiavello giace lo scheletro di stenterello così lo stenterello urla, sbraita esalta le virtù della stirpe e gli antenati ma non fa nulla non lavora non produce neanche uno straccio di idea signor Presidente signore e signori consiglieri investimenti dunque non starò a ripercorrere quelli già finanziati e bloccati dalla legge ma cercherò di disegnare con leggerezza i principali impegni politici che ci stanno sforzando di mantenere non tanto i vincoli vecchi e nuovi sul campo delle opere pubbliche e dei servizi una parte importante svolge il settore delle politiche ambientali dove siamo giunti alla fase di progettazione della dorsale ciclabile della piana e del relativo centro visite insieme agli spropri per i boschi della piana continuiamo a dialogare con la regione toscana per scongiurare lo scempio del parco con la costruzione di una pista che ne canciderebbe storia, impegno e utilizzo futuro sappiamo che gli uccellini non devono fermare il progresso ma sappiamo anche che cittadini e imprese vivono male in un territorio con la qualità della vita e dei servizi bassi e precari anche la sistemazione dei parchi degli etruschi e di isola dovrebbe andare a compimento ci sarà una gara per l'affidamento della gestione degli spazi di isola approvato oggi la giunta comunale a seguire la presa in carico la risistemazione da parte di Cavet delle opere distrutte la recinzione dell'illuminazione da parte del comune così come sarà necessario trovare le risorse mancanti per completare la strada e correre lunghi torrente Zambra nel parco degli etruschi che a memoria conosce il travaglio di quell'opera da prima legata alle opere di urbanizzazione di doccia poi inserita nei ripristi delle opere TAV con accordi rivelati se insufficienti stiamo lavorando alla ricerca dei finanziamenti per poter finalmente completare l'opera attraverso anche contributi diversi da quelli del bilancio comunale è in progettazione anche l'utilizzo delle acque della galleria per l'alta velocità per aumentare la dotazione idrica della zona alta di Colonnata con la posa di un nuovo tubo da 400 lungo Viale dei Mille così anche nel 2012 sarà soddisfatto e fa politica alla macchina fotografica stiamo discutendo inoltre col lato dei rifiuti questo fiorentino da mettere a gara per vent'anni nel bacino Firenze-Prato-Pistruia siamo convinti di dover accettare la sfida di un ulteriore salto di qualità nella differenziazione dei rifiuti verificati le condizioni operative e di costi ci saranno proposti l'obiettivo del 60% è ampiamente alla nostra portata e siamo convinti che con l'estensione a giorni del porta a porta industriale allo smannoro l'apertura dell'isola ecologica a Padule l'arrivo dei cassonetti a chiave sempre a Padule la realizzazione di postazioni interrate nel centro cittadino sarà presto raggiunto e superato da sostenitori convinti della diversificazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre il carico non esportare fuori bacino neanche un chilo superare le inquinatissime discariche recuperare il più possibile risorsa compresa di energia e avviarle a incenerimento in impianti piccoli testati e super controllati così come avviene in gran parte del mondo industriale siamo consapevoli del necessario carico di responsabilità al quale è chiamata la nostra comunità dando come spesso è accaduto il buon esempio continuo a ritenere dovremo punire chi non differenzia piuttosto che chi lo fa che premiare chi lo fa e con i nuovi ispettori ambientali cercheremo più di prima di far rispettare regole e regolamenti consapevoli che dall'informazione e dall'educazione passa il primo impegno l'ambiente guadagnerà anche dalla realizzazione di importanti opere pubbliche la rotatoria di viale togliati viale di risorgimento viale di artieri di maggio la nuova strada di collegamento fra il lotto 5A della perfetta di caso dei via Nenni che toglierà ulteriore traffico pesante da via Lariosto la posta di asfalti fonoassorbenti stante le tutte e lunghissime prescrizioni di Arpat l'apertura del parcheggio Giannini il cui ritardi solo i pigri o le persone in cattiva fede possono aver pensato dovute ai caratteri di una scritta che è stata rimossa semplicemente perché non ha autorizzata invece che a ritardi tutti i privati nell'ultimazione dei lavori nel relativo collaudo delle opere un esempio è quello del parcheggio Giannini di come non si devono fare le opere e di come errore su interessi collettivi e sulla programmazione dell'ente locale l'opera come è noto porterà un miglioramento all'accessibilità della sosta in centro e dunque all'estensione della zona traffico limitato con lo scopo di elevare e dolori la qualità della vita e offrire al commercio di vicinato in un'epoca a noi di deregulation la possibilità di giocare alla carta della qualità via Verdi la sistemazione della piazzetta a via Gramsci la via della progettazione di piazza 4 Novembre l'estensione della sosta a pagamento nelle piazze del centro non necessaria attenzione ai diritti dei lavoratori completano il quadro della riorganizzazione del centro urbano faremo necessari inconti per illustrare progetti e raccogliere osservazioni in questo quadro siamo consapevoli e contrari a quanto deciso dal Parlamento sul tema della deregulation degli orari e degli esercizi commerciali ci troviamo di fronte ad una vera e propria novità mondiale ci sono tante ragioni per opporsi la prima di ordine istituzionale spetta ai comuni interpretare i bisogni del proprio territorio in accordo con l'organizzazione dei lavoratori e degli imprenditori la seconda di ordine morale profondamente sbagliato non riconoscere ai lavoratori nessuna giornata di chiusura considerandoli solo come un appendice all'attività e non l'attività stessa questo farà lievitare i costi aumenterà la precarietà già alta nel settore la terza di ordine commerciale l'economico convinti della necessità di un mix nell'offerta commerciale tra grande e media distribuzione e commercio di vicinato pensiamo sbagliato puntare tutto sulle grandi superfici capaci forse di intercettare un maggiore interesse sul prezzo ma sicuramente meno capaci di fornire quella professionalità continua è solo un esercizio in cui il commesso lavora da lungo tempo che la famiglia gestisce la generazione può dare ovviamente nella crisi del commercio non pesa soltanto il tema degli orari e delle aperture ma anche quello del calo verticale dei consumi dell'aumento dell'IVA di un esoso costo degli affitti siamo favorevoli a che si possa trovare a livello di aria vasta ma anche in aree più illimitate un accordo delle categorie disponibili per convenire su un numero di un numero stabilito di aperture festive tali da consentire nel tempo un elemento abitudinario di qualità anche per questo rinnoviamo il nostro sostegno all'attività del centro commerciale naturale ed anche per questo abbiamo provveduto l'ultimo esempio di un mese fa ad ampliare l'offerta di vendita ambulante sul territorio signor Presidente signore e signori consiglieri tutti voi sapete quanto sarà delicata la vicenda urbanistica nella redazione del nuovo regolamento il procuratore Quattroocchi ha denunciato con forza quella che ha definito urbanistica contrattata un male oscuro che mina da decenni e lo sviluppo del territorio e dell'intero paese come ho dichiarato ho scoperto quella definizione nel libro che scrissero Piero della Seta Edoardo Salzano l'Italia al sacco pubblicato dopo lo scopo di Tangentopoli per chi come me si era opposto con forza alla mega variante denominata Fiat fondiaria il testo assurse ben presto un modello etico-politico l'urbanistica è un trattato alla resa del regolatore agli interessi della rendita esclusi i casi più gravi di corruzione quando il regolatore politico rinuncia alle proprie prerogative di regolare il rapporto tra legittimi interessi privati e prioritari interessi pubblici abdica alla propria funzione principale anche se per onestà va detto la penura di risorse pubbliche talvolta costringe il regolatore ad affrontare le soluzioni di problemi di natura collettiva attraverso il ricorso a risorse e relative rendite private per il nuovo regolamento urbanistico si è scelto un percorso di grande trasparenza e partecipazione partecipazione non è avere e voler ragione partecipazione è un processo complesso e faticoso dove si confrontano idee e indicazioni tecniche con lo scopo di migliorare gli standard cittadini favorire l'edilizia di qualità e la possibilità di accedere al bene della casa a prezzi sostenibili e lo spazio vitale per uno sviluppo soprattutto manifatturiero che consente ai nostri figli di trovare buona occupazione nel nostro territorio partecipazione è il diritto di esprimere opinioni e che queste vengano prese in considerazione il diritto ad avere risposte ma anche il dovere di pretendere politiche pubbliche di carattere universalistico non per il mio caso ma per tutti i casi simili ci scusiamo in partenza la prima volta che ci muoviamo così faremo errori avremo incertezze e potremo dover aggiustare più volte il tiro ma una cosa vi garantisco la trasparenza la lontananza la interesse opachi e non utili lo sviluppo moderno di Sesto Fiorentino l'avviso vale per tutti giunte e consiglio non saranno permessi assalto alla diligenza né saranno tenuti coperti interessi che in contrasto ai nostri principi cercheranno magari il nome di una partecipazione pelosa di sviare il risultato finale la trasparenza è un obbligo per tutti dal sindaco ai consigliari comunali ho l'età e penso anche l'esperienza per vedere quando si vuol promuovere un'iniziativa dotata di retropensieri per dirla in breve non universalistica ma particolare nel frattempo l'UTOE unica renderà più fluidi i volumi del vecchio piano strutturale discussione sulla CINORI sperandola si possa fare con azienda russalda ci consentirà di discutere con forza di uno sviluppo anche di lungo periodo la variante al piano del ruolo di doccia consentirà da una parte di completare le previsioni del vecchio regolamento per quanto riguarda le pertinenze pubbliche e di aggiustare alcuni aspetti critici sottovalutati nel piano originario un altro di argomenti probabilmente dovremo affrontare l'assetto definitivo dell'area conosciuta a Mosman Noro Sud Signor Presidente Signore e Signori Consiglieri il bilancio punta molto su scuola e servizi sociali sia con gli stanziamenti di spesa corrente basti per guardare il trasferimento pro capite delle risorse sociali per i nostri cittadini rispetto alla media della società della salute sia con un sostanzioso contributo alle famiglie in difficoltà con l'affitto purtroppo privi del contributo nazionale e con un contributo regionale minimo sia con i trasferimenti verso l'istituzione per le attività su cui relazionerà la Presidente Faresi colgo solo l'occasione per ricordare a tutti noi che nel primo anno di attività della nuova biblioteca i prestiti sono aumentati del 12,2% sul 2009 arrivando a 59.000 2.400 sono stati di accesso al web 148.000 accesso alla struttura nel 2011 sono stati spesi 33.500 euro dal comune e 18 dalla società per la biblioteca circolante per continuare ad accrescere le dotazioni e l'offerta documentale proseguono i lavori per la scuola di Viale Togliatti la più grande scuola per l'infanzia del nostro comune che potrà ospitare i bambini presumibilmente all'inizio dell'anno scolastro 2013-2014 un'opera risolverà molti dei problemi di spazi di adeguatezza degli stessi per il terzo circolo didattico è in progettazione dell'ampliamento della cavalcante necessario oltre per la funzionalità della scuola anche per poter discutere con maggior serenità della riorganizzazione scolastica comunale in istituti comprensivi come tutti voi sapete il primo istituto comprensivo secondo circolo e scuola Pescetti è già stato autorizzato e prenderà il via con il prossimo anno scolastico più difficile la costruzione della scuola per l'infanzia del nido della zambra dopo l'urbanizzazione secondaria degli interventi noti come PL1 e PL13 è già dotata della relativa convenzione sottoscritta da tutte le aziende e cooperative partecipanti all'impresa meno il gruppo Margheri le cui difficoltà economiche purtroppo sono note a tutti sono in corso gli ultimi contatti per verificare la possibilità di questo gruppo di avere l'accordo piuttosto di avviare le necessarie e dolorose procedure di escursione delle fiduzioni appositamente sottoscritta per poter avviare l'ite progettuale e realizzativo siamo fortunatamente a conclusione dell'infinito lite per l'apertura del campo di Volpaia pessimo esempio di iter di opere pubbliche fallimenti e procedure annessi hanno impedito il regolare svolgimento di un appalto semplice nella sua originaria formulazione comunque siamo arrivati alla fine nella nostra città avranno un nuovo campo sportivo per il gioco del calcio pensiamo di poter realizzare i lavori per il rifacimento dell'impianto idrosanitario e il luminotecchio nel palazzetto Tari dopo l'assignazione della gestione avvenuta con gara le gare sono state il filo conduttore della nostra politica gestionale manca solo quella dell'impianto per il baseball la quale provvederemo prossimamente la gara non è un artificio per fare un maggior legalità ciò che facevamo prima con le assegnazioni dirette la gara rappresenta un patto fondativo tra il proprietario il comune e il gestore il vincitore o i vincitori nei capitolati il comune assume responsabilità e nell'offerta di gara i vincitori prendono impegni impegni materiali per realizzare opere e migliorare e migliorire la struttura pubblica ma anche impegni morali di buona gestione d'apertura al sociale di convivenza con le associazioni ospite e con i soci non sarà questa amministrazione dirimerà i conflitti tra associazioni per gelosia interesse e risentimenti chi non ci sta riporti le chiavi oppure si acconci a convivere con civiltà faccio appello a tutte le società sportive affinché guardino a questi anni difficili in cui soldi sono di meno anche per mandare i figli al campo sportivo o in piscina con serietà e disponibilità anche perché i cambiamenti non possono essere chiesti soltanto alla politica e allo Stato signor Presidente signore e signori consiglieri sono a conclusione i 26 alloggi di edilizia residenziale di via del risorgimento dovrebbe ripartire l'iter per la realizzazione di 12 alloggi ERP con finanziamento di 1 milione 100 a parte del comune ed eventi alloggi a canone abbattuto presso l'area denominata ex-cantiere comunale a ritardi in lavori di bonifica del terreno si sono purtroppo sommate le vicende economiche di consorzio Etruria originariamente capofila del consorzio che vinse la gara per l'acquisto dell'area superate le difficoltà burocratica anche questa iniziativa dovrebbe ripartire con gli ovvi ritardi e completare gli interventi numerosi di qualità per alleviare il peso di uno sfratto o di un altro forte disagio abitativo sono 819 gli alloggi ERP nel comune di Sesto Fiorentino 41 sono stati consegnati nel 2011 sono 387 le famiglie ingradatorie per un alloggio ed inizia pubblica a somma 163 mila euro la morosità negli alloggi pubblici 150 mila euro sono le risorse del comune impegnate nella loro manutenzione le risorse nazionali per i contributi per l'affitto sono passate però nel 2010 da 130 a 33 milioni nel 2011 e nel 2012 sono e saranno zero l'intervento della regione toscana si è ridotto nel 2011 a 9 milioni di euro e per il 2012 per ora c'è solo una promessa gli stanziamenti speciali per la morosità prevedono per il nostro comune solo 50 mila euro nel 2012 continua invece con la stessa intensità lo sforzo fatto dal comune con risorse proprie che in assenza delle altre saranno sicuramente insufficienti mi piacerebbe comunque che magari alla fine dell'anno la commissione competente potesse fare un benchmarking con i comuni dell'area fiorentina per mettere in relazione gli impegni e verificare il contributo alto e continuiamo a dare a questa emergenza anche per questo per noi è l'una verso sdito signor Presidente signore e signori consiglieri la prossima pubblicazione del bando di gara per la concessione di un lungo periodo alle strutture di Villa Solare a Centro Diurno e Centro Amadiucci rappresenta una nuova frontiera per una gestione più efficiente ed economica dei servizi per gli anziani e per la disabilità ho letto recentemente di un richiamo nostalgio prima a fare come negli anni 80 e poi a prendere esempio degli anni 90 per dare tutto il potere così si dice ai professionisti a volte mi pare di sognare negare il ruolo della politica degli enti locali del regolatore pubblico per affidarsi al manager al professionista è un segno di profonda evoluzione culturale che alimenta distacco dalla vita civile e sfiducia crescente nel sistema politico italiano così come è descritto dalla nostra Costituzione con le società della salute abbiamo voluto altro integrazione sociosanitaria appropriatezza delle prestazioni efficienza della spesa pubblica e coinvolgimento di tutti i soggetti attivi medici pediatri asd ospedali comuni regione nella programmazione e nella gestione della salute come progetto e come obiettivo le mutate convinzioni della regione le sempre più basse risorse a disposizione per le asd rischiano di mettere tutto ciò a rischio con un inevitabile ritorno ad un passato fatto di lobby e poteri forti in cui l'incapacità e non l'invadenza della politica provoca la separazione tra programmazione e gestione provocò la separazione tra programmazione e gestione gli investimenti della società della salute sono tanti e tali che chi anche della stessa maggioranza pensa che questi siano soldi buttati via difficilmente potrebbe approvare questo bilancio un bilancio dove il faro guida nella crisi nera del paese e degli enti locali è non tagliare i servizi fornire gli efficienti o la necessaria giusta partecipazione degli utenti espandere le attività di un welfare che con il decreto 78 ha visto profondamente mutato il rapporto fra enti locali ed erogazione dei servizi alla persona anche quest'anno esattamente come l'anno scorso non abbiamo tagliato un euro alla spesa sociale con un particolare in più meno risorse e più alto obiettivo di patto di stabilità signor Presidente signore e signori consiglieri sul fronte della sicurezza abbiamo dato il benvenuto alla nuova dirigente del commissariato di Sesto Fiorentino certi che saprà fare bene come i suoi predecessori nell'assicurare la serenità delle nostre famiglie nel proteggere i nostri impressi Polizia di Stato Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato costituiscono seppur colpita anch'esse dalle difficoltà delle finanze pubbliche un team straordinario che grazie ad una collaborazione puntuale precisa e mai forzata dalla Polizia Municipale assicura il controllo del nostro territorio un territorio attratto attraversato da fenomeni di microcriminalità purtroppo familiare alle grandi aree metropolitane talvolta investito da fenomeni di marginalità che sfociano spesso nell'illegalità insieme alla Prefettura alla Questura al Comando Provinciale dell'Arma e alle altre forze dell'ordine siamo impegnati a far rispettare leggi e regole del vivere civile senza riguardo a nazionalità etnia e quant'altro potrebbe rappresentare elemento di discriminazione è il terreno dove vogliamo continuare a svolgere la nostra iniziativa mentre nel contempo cresce sempre di più il ruolo di rapporto un cittadino della Polizia Municipale ed esce dalla straordinarietà il terzo turno notturno che diventa ordinario orario di lavoro con l'ultimo accordo l'amministrazione ha stanziato ulteriori risorse per i nuovi interessanti progetti abuso di alcolici e per gli eccessi di velocità così pericolosi per i nostri ragazzi signor Presidente signore e signori consiglieri sono ormai anni essenzialmente dalla legge finanziaria per il 2007 che ogni manovra di bilancio si preoccupa di intervenire sulla complessa realtà delle oltre 6.000 società partecipate dagli enti locali sembra di poter individuare nei tanti provvedimenti che si sono da tale data succeduti la volontà di ridurre gli aspetti degenerativi del fenomeno dell'esternalizzazione peraltro da tempo indotti dallo stesso legislatore con norme tanto coercitive quanto di facciata che non distinguono tra le serie realtà industriali e aziendali costituite per discutibili finalità ogni anno le norme relative a tale società che si sosseguono e sovrappongono creando un quadro complessivo di difficilissima comprensione si caratterizzano per l'ipporre ostacoli e vincoli non solo alla società inutili e produttivi di disavanzi ma anche a quelle che forniscono primari e efficienti servizi ai cittadini la scelta operata dal legislatore con l'articolo 23b della manovra estiva del 2008 prevedeva una forte liberalizzazione dei servizi pubblici andando ben oltre la disciplina comunitaria con l'intento dichiarato prima al mercato agli operatori privati il ben noto esito referendario di abrogazione dell'articolo 23bis avrebbe giustificato una nuova regolamentazione rispettosa della volontà referendaria l'esito referendario è stato però fin da subito interpretato dal governo in senso assai restrittivo limitatamente al solo settore idrico potendo lo stesso far leva su una campagna referendaria specularmente giocata sull'equivoco slogan acqua pubblica malgrado il quesito investisse l'intera riforma dei servizi pubblici locali per tale via l'articolo 4 del DL 138 ha riproposto contenuti molto simili a quella abrogata due mesi prima per la gestione dei servizi pubblici e rilevanza economica le società che gestiscono attività strumentali sembrerebbero tenute fuori da questa normativa la disciplina del decreto 138 continua dunque a contemplare tre modalità di gestione di cui due ordinarie affidamento del servizio tramite procedura di evidenza pubblica ovvero gara a doppio oggetto ed una residuale l'affidamento in house può giustificare con delibera quadro una preventiva analisi del mercato la delibera in questione da adottare una prima volta entro 12 mesi all'entrata in vigore del decreto dovrà illustrare l'istruttoria compiuta e evidenziare per i settori sottratta dalla liberalizzazione le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti al mantenimento di un regime di esclusiva del servizio dall'ambito dell'applicazione della suddetta normativa restano esclusi oltre al servizio idrico quello di distribuzione del gas di distribuzione d'energia elettrica del trasporto ferroviario regionale e delle farmacie comunali nel contempo continuano ad operare le disposizioni in base alle quali gli enti locali potranno costituire soltanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi estremamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non potranno assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in società che perseguono fini diversi il coma 32 dell'articolo 14 del DL78 prevede però il divieto per il comune in un popolazione fino a 30 mila abitanti costituire o acquisire partecipazioni in società le società già costituite devono essere messe in liquidazione ovvero devono essere cedute le partecipazioni entro il 31 dicembre di quest'anno sono esclusi da tale obbligo le società con partecipazione paritaria o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti dei comuni partecipanti ovvero che abbiano al 31-12 un bilancio in utile degli ultimi tre esercizi non abbiano subito nei precedenti esercizi induzione di capitale conseguente a perdite di bilancio non abbiano subito nei precedenti esercizi perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall'onere di procedere a ripiano il comune e un popolazione compresa fra 30 e 50 mila ovviamente in caso nostro possono partecipare ad una sola società eventualmente società già costituite devono essere messe in liquidazione in 32-12 e 2013 pur nel silenzio della norma da ritenere valgono anche per i comuni tra 50 mila abitanti le esclusioni viste sopra per i comuni sotto i 30 mila sulla materia dei servizi pubblici locali dunque con l'esclusione ancora una volta delle società strumentali è da ultimo intervenuto il DL 24 di quest'anno numero uno apportando fra le DL del 24 gennaio 2012 numero uno apportando fra le altre le seguenti novità le regioni dovranno organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei a decorre dal 2013 l'applicazione di procedure di affidamento di servizi in procedura di evidenza pubblica costituisce l'elemento di valutazione della virtuosità degli enti i finanziamenti statali a qualsiasi titolo concessi sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali ovvero ai relativi gestori selezionati tramite procedure e evidenza pubblica le società affidatari in auso sono associatate al patto di stabilità sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del decreto legislativo 163 devono adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e conferimento di incarichi nel rispetto dei principi dell'articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001 per gli enti territoriali in popolazione superiore a 10.000 abitanti la delibera a quadro prevista dal DL 138 è adottata a prevo parere dell'obbligatorio dell'autorità garante della concorrenza e del mercato in assenza della delibera l'ente locale un po' procede all'attribuzione di diritti in esclusiva la soglia per l'affidamento in auso a soggetti abili requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario scende da 900 a 200.000 e affidamenti diretti relativi a servizi in cui valore sia superiore alla soglia di cui sopracessano improragabilmente alla data del 31 dicembre di quest'anno sono confermati i settori esclusi dalla normativa fra cui le farmacie signor Presidente e signori consiglieri una partita decisiva in futuro la giocherà l'attenzione appunto ai cosiddetti beni comuni purtroppo la legittazione in materia di società partecipate o concessionari di servizi in housing è stata quanto di più frammentaria come ho cercato di spiegare potesse esistere normativa spesso più complessa e severa di quella presa appunto di riferimento del diritto comunitario un accaso come ricordavo è stato abolito il famoso articolo 23 bis la razza era e resta quella di dare ai soci pubblici in base ai propri programmi ai bisogni del territorio ai desideri dei cittadini alla convenienza economica e qualitativa la possibilità di decidere come gestire i propri beni comuni ovviamente con regole di tutela della concorrenza e del libero mercato ripilo per chiarezza alcune recenti presi di posizione le idee di questa amministrazione acqua è necessaria una legge che consente ai gestori soprattutto agli ato di poter adeguare le tariffe al dettato referendario senza compromettere i piani degli investimenti in essi è necessario un serio piano di investimenti per tutto il settore idrico che finanziato dalla tariffa e dal credito possa continuare a migliorare l'efficienza del servizio la sua diffusione e determini positive ricadute sull'occupazione energia l'aggregazione di Estra ha già consentito la costruzione di un colosso pubblico del gas ricerca di capitale di rischio doveva essere punto di riferimento di una possibile aggregazione meglio se molto utiliti a livello regionale abbiamo scritto insieme a tanti colleghi al sindaco di Prato per cercare di farlo desistere dall'errore di una gara solo pratese affinché quale comune più grande possa guidare per tutti i comuni dell'ambito di gara per il gas la relativa procedura rifiuti sia l'ipotesi di gara per la raccolta e gestione dei rifiuti e lo spazzamento delle province di Firenze Prato e Pistoia per i prossimi vent'anni sia l'eventuale se consentito utilizzo dell'articolo 25 del decreto legge 1 per una proroga dell'obbligatorietà della gara per tre anni dovranno portare alla realizzazione di una società unica tra gli attuali soci di Elios tale da costruire uno zoccolo duro toscano capace di reggere la competizione locale e non solo con l'auspicio ovviamente in caso di gara che possa vincerla procedere con le previsioni contenute nell'adottato piano interprovinciale per consentire certezza degli smastimenti livelli di differenziazione e riduzione della produzione dei rifiuti a livelli europei trasporto pubblico locale la vendita di ATAF gestioni nostro malgrado rappresenta uno dei punti più bassi della governance di area metropolitana avremmo preferito discutere di più con i lavoratori condividere strategie per il trasporto metropolitano attendere con un ATAF sottoposto a una bella cura sul fronte delle spese l'esito della gara regionale di prossima emissione a tra proposito sono in via di definizione le proposte della conferenza provinciale alla regione per comporre il bando di gara invito ancora una volta la commissione competente se lo desidera ad approfondire le proposte fatte e le soluzioni ipotizzate con l'assessore farmacie nonostante le continue numerose modifiche legislative l'azienda ha retto bene la difficile situazione ed è annunciata anche per quest'anno una chiusura positiva se sotto il profilo economico che gestionale qualità dei servizi la ristrutturazione delle azioni intraprese per migliorare la qualità dei prodotti offerti aumentato la sicurezza del lavoro e migliorato l'offerta ai giovani utenti produrre pulito prosegue il lavoro di stima dei beni da conferire per determinare l'aumento di capitale di parte pubblica e consentire alla società di migliorare l'offerta su un più settore quanto mai delicato colloquirsi della crisi Casa e S.P.A. proseguono i programmi di realizzazione di alloggi previsti e con le risorse a disposizione di operazioni di manutenzione del patrimonio abbiamo già discusso in questo consiglio su come dovrebbe cambiare la legge regionale per consentire di avere più risorse dagli affitti per le manutenzioni per quanto riguarda l'Agenzia Fiorentina per l'Energia Consac Servizio Dolza Service Linea Comune e Pubblic S.S. proseguono nell'azione concordata con programmi annuali per la gestione dei servizi affidati per i figli toscani Isola di Renai come è noto le partecipazioni sono soltanto simboliche Signor Presidente Signore e Signori Consiglieri non essendo un uomo reticente infine una parola sulla vicenda della Piana Fiorentina ho scritto il 5 marzo scorso ai colleghi di Calenzano Campi e Signa per significare alcune considerazioni ritengo quanto mai opportuno proprio in un'ottica di riorganizzazione e semplificazione istituzionale realizzare il progetto al quale abbiamo lavorato ritengo altresì imbarazzante dal 20 giugno 2011 data dell'invio da parte mia dell'ultima concordata bozza di statuto e nonostante un'ulteriore sollecitazione non sia pervenuta sottoscritto neppure l'ombra ad una risposta formale resto pertanto da qui innanzi a nomini ineluttabili anche se nell'accettare l'economia capitalistica non è possibile rifiutare quelle che sono insite nel sistema le sue cicliche e sempre più forti crisi le crisi di sovrapproduzione e la caduta tendenziale del saggio di profitto ci rammentano ogni ora la fragilità del sistema che per ora è il modello si è affermato e continua ad affermarsi in larga parte del mondo leggendo quello scriveva Karl Marx sulla crisi economica del suo tempo visto lo rileggono tutti in tutto il mondo vi posso permettere di rileggere un po' anch'io avvertiamo una sorprendente familiarità banchieri uomini d'affare assolutamente incapaci di prevedere la crisi schiere di economisti e predicavano l'impossibilità della stessa Marx criticava la teoria del colpevole della crisi che riposava nella convinzione che la crisi fosse esterna al normale funzionamento dell'economia capitalistica dovuta a colpe o ad errori di qualcuno il problema invece è che non vi è un giudizio di fondo contingente ma si tratta di una caratteristica strutturale del sistema economico massima valorizzazione del capitale nel miglior tempo possibile non vi fa venire in mente la vicente vicenda di Warnock Marx ci ha spiegato la ricetta per la caduta tendenziale prolungamento del tempo di lavoro non vi fa finire in mente il prolungamento dell'età pensionabile intensificazione del lavoro non vi fa venire in mente il nuovo accordo alla Fiat ci ha spiegato che dietro a una crisi finanziaria c'è sempre una crisi di sovrapproduzione e di realizzo del capitale una crisi in cui si interrompe il ciclo di trasformazione della merce in denaro che trasforma il denaro in merce assoluta con un valore superiore alla merce non vi fa venire in mente qualcosa di molto vicino e cara a tutti noi aver accettato l'economia di mercato non può consentire però di dimenticarsi di diritti inalienabili a fronte dello sfruttamento indiscriminato della crescita del divario economico tra i primi e gli ultimi della scala sociale non consente di abbassare la guardia nei confronti di disuguaglianze immense e crescente nel mondo meno sviluppato ma anche qui sotto i nostri occhi i giovani precari chi lavora in luogo insicuro le donne le quali mi hanno fatto firmare licenziamento in bianco coloro che un lavoro non lo trovano e coloro che lo perdono coloro che hanno investito tutta la vita nell'azienda di famiglia e si trovano sull'astrico perché la testa delle banche non è più sul territorio i tanti che pagano le tasse di contro a coloro che le vadano e ci ridono pure la lotta alla disuguaglianza sarà una frontiera nuova lungo la quale misurare le grandi e nuove culture politiche degli anni 2000 ricche di legami con valori solidi radicati non nei decenni non dei decenni ma indietro nei secoli l'emancipazione delle persone da vecchie e nuove schiavitù da libertà come campo indiscutibile per l'agire pubblico e privato saranno terreni di scontro e di confronto l'Italia si sta provando ad uscire da una stagione morale e politica terribile dove il poco per tanti e il tanto per pochi è stato un ritornello suonato e cantato da un centrodestra europeo italiano aggressivo e illiberale dobbiamo essere in molti per uscire dalla nuova crisi quella economica e finanziaria ma non possiamo dimenticare di chi sono le responsabilità sono di quella destra mondiale ed europea che ha ristretto il campo dell'eguaglianza e della libertà che ha negato sempre di più il valore al lavoro e alla sua emancipazione che non ha concepito diritti se non per i più forti questa destra ha fallito ci ha consegnato continenti interi impoveriti e costretti a rifinanziare con i soldi pubblici spesso proprio i responsabili del disastro non dico questo per accanimento ma perché lo sviluppo economico e civile vogliamo e lo spichiamo non sia dimentico di errori e di colbe il Presidente della Repubblica uomo saggio e illuminato ha aiutato una politica recalcitrante a provvedere a ciò che era indispensabile per evitare conseguenze ben peggiori delle attuali nel far fronte all'immenso debito e alla recessione in atto non tutti sono stati e sono contenti alcune cose dovevano essere fatte altre possono essere fatte soltanto da coloro in una limpida competizione elettorale sapranno sfidarsi con leadership e programmi alternativi spero non si costruiscono più maggioranza contro qualcosa ma per realizzare qualcosa spero la necessaria riforma elettorale riconsegna ai cittadini la possibilità di legare agli eletti allora passo la parola al Presidente di Sesto Ideo Sonia Faresi per la relazione sarò più breve però a me questo nostro non mi sta fermo no non beve non beve c'è uno spirito cattolico deve soffrire grazie Massimo signor Presidente signor Sindaco assessori e consiglieri oggi presentiamo anche il bilancio preventivo dell'istituzione e il suo piano programma il bilancio di previsione 2012 dell'istituzione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera numero 41 del 24 novembre 2011 ed è oggi sottoposto al Consiglio Comunale e contestualmente al bilancio del Comune questa occasione si configura come un importante momento di riflessione politica sullo stato dei servizi gestiti dall'istituzione che mirano ad attuare le politiche del welfare locale ovvia ossia i servizi per l'infanzia l'istruzione lo sport e la cultura la costruzione la costruzione del bilancio 2012 non è stato semplice in un quadro di risorse sostanzialmente uguale a quelle dell'anno passato con il costo dei servizi in crescita per esempio il costo unitario del pasto per la riflessione scolastica aumentato del 3,2 da gennaio oppure dei servizi dati in appalto anche quest'anno come ha ampiamente illustrato il sindaco nella sua relazione il comune di Sesto Fiorentino pur in un quadro di grande difficoltà con risorse che vengono a mancare per scelte compiute dal governo centrale il taglio dei trasferimenti per il comune di Sesto Fiorentino nel bienio 2011-2012 è stato di 1.874.000 di cui 1.124.000 effettuato nel 2011 e 750 relativo al 2012 oltre a questo 1.300.000 euro taglio del decreto Salva Italia con mancate entrate che derivano dalla crisi economica che attanaglia il paese le famiglie e le imprese in questo quadro di difficoltà la scelta prioritaria è stata quella di non abbassare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi alla persona i dati principali del bilancio dell'istituzione il nostro bilancio è di 7.804.041,45 euro così ripartiti 2.761.851,45 saranno destinati al pagamento delle spese di personale ammortamenti e interessi 5.042.190 saranno destinati alla gestione dei servizi all'acquisto di beni e al pagamento delle utenze in dettaglio questi 5.042.190 che l'istituzione andrà a gestire per i servizi saranno finanziati da 1.162.190 che costituiscono le entrate proprie dell'istituzione provenienti dal pagamento delle rette dei servizi di trasporto scolastico e prescuola rimborsi ed altro 3.880.000 di euro che rappresenta il contributo a copertura dei costi sociali che il comune trasferirà all'istituzione con le consuete modalità i costi per ogni settore servizio educativo scolastico e sportivo fa la parte del leone diciamo 4.951.346.81 servizio contabilità segreterie affari generali 1.357.117.02 e il servizio cultura e biblioteca 1.495.577.62 per un totale appunto di 7.804.041.45 più precisamente vi vorrei dettagliare anche la destinazione settoriale di queste risorse il settore assistenza scolastica costa 1.914.137 vi lascio gli spiccioli di cui l'80% a carico del comune il 19,51 per entrate proprie il settore servizi all'infanzia 2.679.745 di cui il 75 97% a carico del comune e il 24,03% con entrate da tariffe i servizi sportivi 357.463 la cui percentuale a carico del comune è circa l'80% un 20% ci rientrano da canoni e quant'altro i servizi culturali invece 1.495.577 il 97,25% a carico nostro e il 2,75% di entrate settore servizi generali 1.357.117 il 97,79% a carico nostro e il 2,21% costituito da entrate nei servizi generali come tutti sapete sono comprese le spese di utenza sia per la sede dell'istituzione per le scuole per gli asili nido per la biblioteca ed alcuni impianti sportivi a queste cifre sovraindicate si aggiungeranno poi nel corso dell'anno quelle che riusciremo a ricavare da sponsorizzazioni finanziamenti di progetti contributi da parte di altri enti pubblici e da privati sempre meno come si capisce dai numeri e comunque sarà più chiaro nel consentivo 2011 che presenteremo prossimamente rimane sempre minoritaria la cifra a carico dei fruitori dei servizi scolastici alla prima infanzia che si aggira mediamente sul 22,4% per essere pari al 2,75% per i servizi culturali la manovra tariffaria che partirà da settembre 2012 è stata concordata e sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e tiene conto di alcuni elementi oggettivi l'amministrazione comunale ha già corrisposto nel 2011 l'adeguamento ISTAT a favore delle cooperative che hanno in affidamento la gestione dei servizi asilari delini comunali e che gestiscono servizi per la prima infanzia per conto del comune inoltre abbiamo corrisposto già a partire da gennaio 2012 un aumento del 3,2% all'azienda fornitice del servizio di ristorazione dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica si è quindi convenuto con le parti sociali di rimodulare le fasce ISEE per il recupero dell'inflazione dell'1,83% relativa al periodo luglio 2009 settembre 2010 in attuazione di un accordo che avevamo sottoscritto a ottobre del 2010 e l'applicazione dell'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo pari al 2,73% per le tariffe dei servizi di ristorazione scolastica nidi frescuola trasporto e retterido a partire dal settembre 2012 inoltre sempre in virtù di quanto concordato in quell'accordo è stata pubblicata con determina del direttore dell'istituzione nell'ottobre del 2011 il bando per l'assegnazione di esoneri parziali dal pagamento delle tariffe alle famiglie numerose residenti per questo anno scolastico 2011 2012 che prevede che fermo restando il limite di reddito esè di euro 18.500 alle famiglie numerose con tre o più figli che usufruiscono del servizio di ristorazione un abbattimento del costo del pasto dal secondo figlio in poi pari al 50% della tariffa attribuita in base alla propria situazione esè quindi con tariffa intera solo per il primo figlio sono state inoltre riproposte le misure anticrisi atte a tutelare le fasce più deboli prevedendo una riduzione tariffaria a tutela dei lavoratori dipendenti genitori di bambini e bambini utenti del servizio di ristorazione scolastica e asili nido che si trovano al momento della presentazione dell'istanza a subire una risoluzione del rapporto di lavoro o che vengano posti in cassa di integrazione o mobilità o in contratto di solidarietà difensivo è stata poi parzialmente modificata la norma che collocava in fascia massima i cittadini non residenti escludendo coloro il cui reddito ISEE appartiene alla prima e la seconda fascia prevediamo quindi un aumento delle entrate da un lato non commisurabile precisamente perché tutti gli anni ci sono nuovi utenti e cambiano anche le appartenenze alle varie fasce ISEE che andrà a compensare l'aumento del costo dei servizi e beni dovuto all'adeguamento ISTAT e l'aumento dell'IVA previsto da settembre 2012 che passerà dal 21 al 23 per cento e dal 10 al 12 per cento dando per scontata la lettura del piano programma che illustra nel dettaglio le attività e i progetti che l'istituzione si prefigge di portare avanti nel 2012 con le risorse assegnate vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcuni elementi che mi stanno particolarmente a cuore perché rappresentano una novità assoluta per il nostro comune la prima novità riguarda la nascita del primo istituto comprensivo a Sesto Fiorentino nello scorso mese di gennaio la regione toscana ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2012 2013 ed ha accordato al nostro comune la formazione di un istituto comprensivo costituito dall'accorpamento delle scuole del secondo circolo didattico con la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Pescetti l'istituto comprensivo rappresenta per il nostro territorio una novità rispetto alla tradizionale organizzazione delle istituzioni scolastiche ed ha come obiettivo principale quello di stabilire una continuità educativa e didattica che va dalla scuola dell'infanzia fino alla terza media comuni province e regioni con in mezzo le conferenze per l'istruzione sono i principali protagonisti del sistema di governance toscano insieme siamo chiamati ad operare ognuno con il proprio ruolo su più aree tematiche che riguardano la formazione e l'istruzione a tutto tondo perché si va dagli asili nido all'educazione degli adulti e fra queste rientra anche la programmazione della rete scolastica che avviene prima a livello comunale poi vari piani confluiscono nelle conferenze per l'istruzione che a ottobre poi inviano il piano in provincia la quale a sua volta coordina e sottopone il tutto al vaglio finale della regione l'anno 2011 si è chiuso con una buona notizia la nomina cioè a sottosegretario alla pubblica istruzione di Marco Rossidoria maestro di strada nei quartieri spagnoli di Napoli da vent'anni formatore di docenti sulle didattiche laboratoriali e le metodologie di contrasto alla dispersione scolastica ecco vorrei soffermare l'attenzione sulla dispersione scolastica e sul successo formativo nel mese di giugno dell'anno scorso tutti i presidenti delle conferenze per l'istruzione della Toscana furono convocati dall'assessore regionale Targetti e in quell'occasione ci furono resi noti i dati sugli abbandoni scolastici precoci che seppure più bassi rispetto alle percentuali nazionali che come noto sfiorano il 20% in Toscana è del 16,5 ma ci vede ancora lontani dall'obiettivo previsto dalla UE per il 2010 e cioè il 10% inoltre c'è un altro dato molto preoccupante che sarebbe il 7% dei giovani toscani tra i 15 e 19 anni che risultano al di fuori dei percorsi di istruzione e formazione e non sono impiegati in alcuna attività lavorativa i famosi NET acronimo che sta per NOT in Education Employment or Training Di fronte a questa situazione è doveroso rivolgersi questa domanda oltre a impiegare risorse per il piano integrato di area per il piano dell'offerta formativa territoriale per l'educazione al movimento per il sostegno agli alunni disabili per l'alfabetizzazione degli alunni immigrati per la mediazione culturale con le famiglie straniere per il progetto tutor di aiuto nello studio pomeridiano possiamo provare ad immaginare dei cambiamenti nell'organizzazione scolastica che siano portatori anche di un nuovo modo di organizzare la didattica che ponga al centro delle proprie riflessioni il soggetto principale per cui la scuola esiste e cioè i bambini e le bambine e che preveda un percorso unitario che le accompagni dai 3 ai 14 anni da qui l'idea di cominciare anche sul nostro territorio un processo di verticalizzazione tenendo conto dei limiti strutturali dei nostri edifici scolastici e dei limiti dettati dal patto di stabilità alle nostre capacità di spesa come abbiamo ricordato più volte abbiamo i soldi ma non li possiamo spendere se non a fronte di maggiori entrate l'idea dunque nasce da qui dalla volontà di sperimentare anche sul nostro territorio quell'originale intuizione organizzativa e cioè l'aggregazione in un'unica struttura funzionale delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado con la mission dell'affermazione del principio della continuità dato queste premesse credo che appaia a tutti chiaro che per realizzare tutto questo non basta fare una somma e verificare i parametri il numero dei collaboratori o del personale alleata occorre condividere il progetto e portarlo avanti con entusiasmo in primo luogo da parte dei dirigenti scolastici che hanno veramente un ruolo trainante anche nei confronti dell'intera comunità scolastica e poi occorre la condivisione da parte dei genitori della comunità del territorio comunità e territorio sono fattori determinanti nel successo formativo dei ragazzi e delle ragazze se avete avuto modo di leggere qualcosa del rapporto sulla scuola 2010 della fondazione Agnelli saprete che in Italia l'estrazione sociale dello studente conta ancora di più delle sue capacità e ne determina le scelte formative e il successo scolastico le famiglie più abbienti e colte mandano i figli al liceo mentre gli studenti con un retroterra meno favorevoli inclusi quelli di origine straniera sono più soggetti alla dispersione e tendono a concentrarsi in alcuni indirizzi scolastici come i professionali ancora più evidenti sono in Italia i divari territoriali essere uno studente del sud significa partire con uno svantaggio di 68 punti nelle competenze misurate nei test da Ox e Pisa l'equivalente di circa un anno e mezzo di ritardo scolastico rispetto a uno studente del nord indipendentemente dalla caratteristica individuale e dalla scuola che si frequenta un dislivello enorme e inaccettabile in un paese avanzato nel rapporto sempre della fondazione Agnelli 2011 ci si pone invece un altro interrogativo che ben si attanaglia a questa scelta dell'istituto comprensivo la scuola media è davvero l'anello debole della scuola italiana come sovente pensano gli esperti le famiglie e gli stessi operatori della scuola o come suggerisce il declino dei risultati degli allievi italiani dopo le elementari segnalato dalle rilevazioni nazionali e internazionali e se la cattiva reputazione risulta confermata dalle evidenze di ricerche a quali cause attribuire la responsabilità del disagio che comunque lo si interpreti attraverso la nostra scuola media a una sua mancanza di identità all'inerzia che da decenni impedisce di riallineare la missione e le esigenze del presente alla sua incapacità di dare a tutti i ragazzi uguali opportunità di apprendimento contenendo gli effetti sul percorso scolastico delle differenze di origine socio-culturale a un corpo docente di età avanzata demotivato e che non è stato formato per rispondere alle sfide educative poste da un'età difficile come la preadolescenza solo tra qualche anno potremo valutare se l'istituto comprensivo è lo strumento più adatto a raccogliere questa sfida consapevoli appunto che si tratta di uno strumento e non della panacea di tutti i mali un'altra importante novità riguarda invece i nostri servizi educativi per la prima infanzia l'ha ricordato anche il sindaco nella sua relazione che hanno ottenuto la certificazione ISO 9001 nel mese di gennaio 2012 dopo un lavoro iniziato a settembre 2010 e che ha coinvolto sia il personale educativo dei singoli servizi che la struttura amministrativa e pedagogica di Sesto Idea fino ad ora quando parlavamo di qualità potevamo misurare solamente la qualità percepita da parte dei genitori dei piccoli utenti attraverso le risposte che ci venivano fornite dal questionario di fine anno adesso abbiamo uno strumento in più che fa riferimento all'adozione di un vero e proprio sistema di qualità volto a mantenere e migliorare costantemente la qualità del servizio erogato e a garantire la crescita e lo sviluppo del personale impiegato i nostri piccoli cittadini hanno diritto ad avere servizi all'infanzia di qualità le donne hanno diritto di vedere esaudito il loro desiderio di maternità hanno diritto a lavorare serene sapendo che i loro figli sono seguiti con cura competenza e professionalità a Sesto Fiorentino il primo nido nacque nel 1974 e da allora le amministrazioni che si sono succedute hanno sempre dimostrato grande attenzione e riversato molte risorse sui servizi alla prima infanzia come pure sulla scuola sulla cultura sulla formazione tutto ciò con sempre maggiore affanno stante la situazione della finanza degli enti locali e la mancanza di fonti di finanziamento nazionali anzi da troppo tempo la parola asilo nido è scomparsa dall'agenda politica e d'altra parte in questi anni il nostro sistema di istruzione è stato massacrato dai tagli di un ministro che riteneva superflua fino anche la scuola dell'infanzia e che ripeteva di continuo che non essendo scuola dell'obbligo le famiglie non avessero niente a che pretendere su questo versante come non vedere quanto la diffusione di questi servizi sia stata invece utile allo sviluppo dell'occupazione femminile e quindi alla creazione di maggior benessere per tutti parlare di qualità dei servizi 06 significa parlare di un bene prezioso che per fortuna molte amministrazioni comunali si sono create nel tempo un bene però sempre più messo a rischio dai tagli e dai vincoli imposti agli enti locali sia in termini di risorse sia per le possibilità di assunzione per le sostituzioni degli educatori che giustamente cominciano ad andare in pensione parlare di qualità significa costruire belle strutture in cui nulla è lasciata al caso ma è progettato per stimolare catturare lo sguardo del bambino educarlo al gusto e in cui educatori attenti organizzino la scansione temporale della giornata e le attività in base a un progetto educativo in luoghi che possano essere frequentati anche da genitori per laboratori seminari o anche solo per momenti conviviali la sfida dell'oggi è coinvolgere in questo le famiglie straniere che a sesto sono circa il 12% dei frequentanti e poi perché vari studi hanno dimostrato che i bambini che hanno frequentato il nido sono più soscevoli più autonomi anche più aperti verso i compagni frequentare un asilo nido sembra creare buone prospettive per il futuro dei bambini anche dal punto di vista del rendimento scolastico purché si sia frequentato una struttura valida accogliente e in cui si fa didattica ecco il 2012 ci vede sempre impegnati su questo fronte perché riteniamo che i servizi all'infanzia costituiscano un pezzo importante del nostro sistema di welfare importante per i bambini che frequentano i servizi e per le famiglie che ad essi le affidano con fiducia il protagonismo e l'impegno del nostro come di molti altri comuni in terra toscana ha fatto sì che molte esperienze siano poi diventate punti di eccellenza e questa è stata poi una delle condizioni che ha favorito anche il diffondersi e lo sviluppo dell'iniziativa privata e della cooperazione sociale in un sistema di rete che ha fatto sì che si potesse dare una risposta di qualità a un numero sempre crescente di bambini e di famiglie passo a un altro tema che mi è proprio la cultura negli ultimi cinque anni si è assistito a una caduta dell'intervento pubblico nella cultura lo Stato ha ridotto i finanziamenti del 30% la dotazione del Ministero per i beni e le attività culturali è infatti passata dai 2.201 milioni di euro nel 2005 ai 1.509 per il 2011 solo nell'ultimo anno fra il 2010 e il 2011 la caduta delle risorse è di quasi il 12% a ciò si aggiunge il crollo del finanziamento statale dello spettacolo il fondo unico per lo spettacolo dal 2005 è quasi dimezzato 258 milioni di euro nel 2011 a fronte dei 464 nel 2005 l'intero settore pubblico Stato regioni enti locali hanno registrato un calo del 20% per le note difficoltà di bilancio più volte rappresentate tanto per dare un'idea lo Stato italiano nel 2010 ha speso in cultura lo 0,21% del bilancio che equivale a una spesa pro capite di 25 euro l'anno a fronte dei 46 euro spessi dalla Francia il DL78 del 2010 convertito poi nella legge 122 oltre che lesivi dell'autonomia degli enti locali nell'ambito delle politiche culturali stanno determinando conseguenze disastrose per il nostro paese rinunciando infatti all'intervento pubblico nella cultura sia a livello nazionale che regionale e locale si sta bloccando il processo di modernizzazione e di produzione dell'offerta culturale di conseguenza è diventato molto difficile se non impossibile per le amministrazioni pubbliche per le fondazioni e tutti gli organismi che gestiscono i servizi e le attività dello spettacolo nel paese continuare a svolgere il loro compito istituzionale di promozione e diffusione della cultura ma noi ci proviamo lo stesso l'apertura della nuova sede della biblioteca Doccia ha segnato per il comune di Sesto e per le politiche culturali una sorta di linea di confine tra il passato e il futuro del territorio con riferimento al fare cultura Doccia nel suo primo anno di attività si è affermata come centro di molte iniziative del servizio cultura e biblioteca ma anche come luogo in cui sono nate collaborazioni diverse il 2012 sarà l'anno in cui questo modus operandi dovrà essere consolidato dunque da una parte lavorando per rafforzare i risultati ottenuti dall'altra per allargare la rete di relazioni su progetti nuovi coinvolgendo maggiormente anche le associazioni del territorio laddove possibili e altri partner istituzionali quali la regione toscana e lo SDIAF in particolare per ciò che riguarda la biblioteca le linee di sviluppo prioritarie riguarderanno il potenziamento dei servizi multimediali della biblioteca e la focalizzazione dell'attenzione di progetti per la fascia d'età 13-18 anni all'esperienza già avviata nella sala ragazzi che riguarda un'età compresa tra gli 0 e i 12 anni si affiancherà quella dei preadolescenti ovvero nel 2012 anche in accordo con la regione toscana grazie a grande attenzione sarà dedicata allo spazio giovani sviluppando una serie di attività di promozione dello studio e della lettura rivolte agli adolescenti questo renderà indispensabile anche una riflessione sull'organizzazione della sala che ospita lo spazio giovani sia in termini di patrimonio che di arredi per rendere questa zona più affine e familiare al proprio pubblico di riferimento incentivarne così la frequentazione e l'utilizzo in questo contiamo di coinvolgere sia gli studenti dell'istituto d'arte di sesto liceo artistico per collaborare a progetti temporanei di allestimento sia insegnanti per dare supporto anche attraverso attività al catalogo degli acquisti e percorsi di studio percorsi di promozione della lettura condivisi e quant'altro l'altro aspetto importante riguarda la creazione di un punto biblioteca in collaborazione con l'ipercop di Sesto Fiorentino il punto biblioteca verrebbe realizzato dalla stessa unicop e gestito dai volontari della sezione soci cop di Sesto come previsto da un apposito protocollo che abbiamo già firmato per ciò che invece concerne la cultura oltre al proseguimento delle due esperienze che hanno dato ottimi risultati in termini di affluenza di pubblico lo scorso anno ovvero i progetti sul medioevo alle porte di Firenze e il progetto dedicato a Pinocchio proseguirà anche il dialogo con le principali associazioni del territorio quale l'Associazione Teatro della Limonaia Atto 2 Scuola di Musica e Istituto Ernesto De Martino al fine di dare continuità al confronto su modi e contenuti di creazione di politiche culturali che mettano al centro il territorio e i soggetti interessati per riassumere il 2012 sarà un anno complesso e interessante al tempo stesso poiché vedrà da una parte lo sforzo dell'amministrazione a confermare i risultati ottenuti ma anche la ricerca di strade nuove in termini di target attività e servizi dunque nuove sfide che arricchiscano sempre di più la città di Sesto e che portino le scelte culturali del territorio ad acquisire maggior peso e visibilità anche nei confronti degli altri partine istituzionali e non concludendo questa parte sulla cultura il teatro la musica il cinema la pittura la letteratura ci aiutano a vivere scomodando il sommo poeta siamo nati non per sopravvivere ma per seguire virtute e canoscenza credo quindi che il nostro paese non può fare a meno di una politica per la cultura così come non si può fare a meno della formazione e dell'istruzione ministri se ci siete battete un colpo perché fino adesso troppo poco il governo si è occupato di questi temi vorrei citare solamente un passaggio del manifesto per la costituente della cultura promosso dal sole 24 ore nel mese di febbraio che bene riassume quanto ho detto finora la cultura e la ricerca innescano l'innovazione e dunque creano occupazione producono progresso e sviluppo la cultura in una parola deve tornare al centro dell'azione di governo dell'intero governo non di un solo ministero che di solito ne è la cenerentola è una condizione per il futuro dei giovani chi pensa alla crescita senza ricerca senza cultura senza innovazione ipotizza per loro un futuro da consumatori disoccupati e inasprisce uno sconto generazionale senza via d'uscita infine una riflessione sullo sport la crisi economica che interessa il nostro paese incide pesantemente anche nel settore sportivo dilettantistico la difficoltà economica la chiusura di aziende rende quasi impossibile alle associazioni sportive reperire nuovi fondi per la sopravvivenza anche sponsorizzazioni consolidate negli anni e considerate un'entrata sicura sono diminuite o addirittura venute a mancare completamente le associazioni che gestiscono impianti sportivi devono inoltre affrontare aumenti nei costi delle manutenzioni e delle utenze dovute all'aumento dell'iva e della benzina e che l'attuale governo ha evidenziato e che aumenterà ancora senza poter a loro volta aumentare i prezzi dei corsi per non gravare ulteriormente sulle famiglie e per non perdere iscritti la scelta dell'amministrazione di mantenere integro il contributo fissato dalle convenzioni per la gestione degli impianti va nella direzione di salvaguardare l'importante patrimonio che la nostra città ha in termini di impianti nonostante che il precedente governo abbia zerato tutti i progetti sportivi in ambito scolastico assegnando fondi solo ad alcune province pilota abbiamo scelto con l'aiuto del MIUR e dell'associazionismo di confermare i nostri progetti scolastici che partono dalla materna con tutti giù per terra e continuano nella scuola primaria con educare attraverso il movimento questo perché noi crediamo che la conoscenza e la pratica dell'attività motoria debba cominciare dai bambini e debba giocare un ruolo importante all'interno della scuola per poter diffondere una cultura sportiva generale prima ancora che l'adesione a una disciplina sportiva concludendo per noi lo sport è coesione socializzazione integrazione opportunità per tutti l'attività sportiva è una leva insostituibile per interventi sociali sulla salute sull'inclusione sull'area del disagio sull'educazione e la formazione dei minori sul dialogo interculturali sono questi i motivi che ci portano a una stretta collaborazione con le nostre associazioni sportive per coinvolgere una grossa parte di cittadini nella pratica sportiva gli anziani con i corsi di ginnastica adatta per la terza età i ragazzi disabili con la fiscina il tennis tavolo le bocce i bambini i ragazzi con la molteplicità di offerta di molte discipline l'associazione donne arabe con le bocce e la ginnastica la sensibilità del comune per lo sport considerato come valore positivo nella società e soprattutto nei giovani la ritroviamo nel coinvolgere le associazioni sportive nel progetto sulla promozione di sani stili di vita e nella prevenzione dell'uso di sostanze psicoattive e dopanti in età adolescenziale per quanto sovraesposto quindi chiedo al consiglio di approvare il piano programma e il bilancio previsionale 2012 dell'istituzione grazie presidente farese allora a questo punto ci aggiorniamo a domani alle 15 per la discussione e la votazione del bilancio buonasera a tutti la seduta termina alle 19 e 25 5